simposio platone appollo d'oro mi pare proprio di non essere non esercitato riguardo a quello che volete sapere da me me ne venivo per caso avanti ieri in città da casa mia ed ecco uno dei miei conoscenti vedendomi dalle spalle mi chiamò da lontano e scherzando insieme alla chiamata mi disse oh fallereo ecco il nostro appollo d'oro non ti fermi un po' e io fermandomi l'aspettai ed egli appollo d'oro mi disse proprio ora ti cercavo desiderando di sapere di quella riunione di agatone e socrate e alcibiade e degli altri che allora parteciparono a quella cena in comune e dei discorsi sull'amore quali furono media già esposti un altro che li aveva ascoltati da fenice figlio di filippo e sosteneva che anche tu ne eri a conoscenza ma egli non aveva proprio nulla di chiaro da esporre e dunque raccontameli anche tu e infatti sei l'uomo più indicato per esporre i discorsi dell'amico ma prima continuò egli dimmi eri presenta in persona quella riunione o no ed io gli risposi sembra proprio che non t'abbia esposto nulla di chiaro colui che te l'ha raccontato se tu pensi che quella riunione della quale mi chiedi sia avvenuta di fresco tanto da potervi partecipare anch'io io sì mi rispose ma come ribattei io glaucone non sai che agatone è lontano da molti anni e non è più tornato qui da quando io ho cominciato a frequentare socrate e mi sono preso cura ogni giorno di sapere quello che dice e che fa non sono ancora tre anni prima di questo ingannavo il mio tempo ovvi mi capitava ritenendo anche di fare qualcosa ma più infelice di chiunque altro non meno di te ora che pensi occorre occuparsi di tutto piuttosto che di filosofare ed egli non prenderti gioco di me rispose dimmi invece quando avvenne questa riunione ed io risposi noi eravamo ancora ragazzi quando agatone vinse con la sua prima tragedia e nel giorno successivo alla vittoria egli fece un sacrificio insieme ai coreuti è proprio molto tempo dunque riprese come pare ma chi te l'ha raccontato è stato proprio socrate no per zeus ribattei io ma lo stesso che lo raccontò a fenice era un tal aristodemo del demo attico di citandide piccolo sempre scalzo si era trovato in quella riunione essendo un ammiratore di socrate tra i più convinti di quelli di allora come a me risulta e su alcuni particolari non è che io non facessi domande anche a socrate e mi disse di essere d'accordo come quello me li aveva raccontati e perché dunque non li hai ancora raccontati a me la strada che conduce direttamente in città è proprio adatta per chi vi si recca e per parlare per ascoltare e così andando insieme conducevamo il discorso su quegli argomenti tanto che come sostenevo all'inizio non mi trovo ford esercizio su questo tema se dunque si deve raccontarlo anche a voi occorre farlo io d'altra parte quando faccio direttamente o ascolto da altri discorsi di filosofia a parte il fatto che ritengo di averne giovamento ne godo anche oltre misura quando invece ne ascolto certi altri e in particolare i vostri di uomini ricchi e intesi soltanto a lucrare mi sopporto molto a malincuore e ho compassione di voi amici perché avete la convinzione di fare qualcosa pur non facendo nulla e forse voi dal canto vostro mi considerate un povero diavolo ritengo che pensiate il vero ma io sul conto vostro non lo penso ma lo so bene amico sei sempre uguale a pollo d'oro e sempre ti rimballo te e gli altri e mi dai l'impressione di considerare tutti assolutamente dei disgraziati cominciando da te ad eccezione di sopra per quale ragione poi tu abbia preso ad essere chiamato con il soprannome di mite non so proprio in tutti i tuoi ragionamenti sei sempre tale sei aspro con te e con gli altri eccettuato socrate a pollo d'oro carissimo è evidente per il fatto che giudico voi così e sul conto mio e sul vostro sono pazzo e vado delirando amico non val la pena pollo d'oro sollevare una lite ora per questi motivi ma come ti invitiamo non fare altrimenti ma raccontaci quali furono i discorsi a pollo d'oro erano dunque un presso a poco di questo taglio ma piuttosto tenterò di esporvi da capo tutto come aristodemo ebbe a raccontarlo a noi disse dunque di essersi imbattuto in socrate tutto ben lavato che portava addirittura i sandali ai piedi cose che egli faceva assai di rado e di avergli chiesto dove andasse così bello e agghindato e lui rispose che andava a cena da agatone ieri infatti l'ho evitato dopo la vittoria ma mi sono impegnato ad andarci oggi è per questo che ho tentato di farmi bello per andare bello da uno bello ma piuttosto continuò egli come la metti col volere venire a cena pur non essendo stato invitato e io continuava gli risposi così come tu disponi vieni vieni dietro dunque rispose per alterare il proverbio stravolgendolo ai banchetti da agatone i buoni ci vanno di loro spontanea volontà omero poi rischia non solo di alterare ma anche di fare violenza a questo proverbio infatti pur rappresentando agamè non è come uomo particolarmente valoroso nelle attività della guerra e menelao invece come un flaccido manovratore della lanza mentre agamennone celebra un sacrificio e imbandisce un banchetto rappresenta menelao che se ne va alcun vito senza essere invitato egli che è inferiore da uno superiore udite queste cose rispose molto probabilmente anch'io correrò lo stesso rischio non come dici tu socrate ma come dice omero recandomi senza essere invitato io che sono uno di poco conto al banchetto di uno che vale considera dunque dal momento che mi conduci tu in che modo potrai scusarmi perché io non consentirò di dire che sono andato senza invito ma che sono stato chiamato da te andando insieme in due le spose lungo la strada stabiliremo cosa dire ora andiamo disse che dopo aver dialogato un presso a poco di queste cose si incamminarono ma socrate per la strada avanzava lentamente volgendo la mente a qualcosa restando indietro e poiché l'altro si tratteneva per attenderlo lo invitava ad andare avanti quando giunsero alla casa di agatone capitarono che la porta era aperta e lì raccontava avvenne una cosa comica subito infatti dall'interno giunse un ragazzetto per venirgli incontro e guidarlo dove erano apparecchiati gli altri e cominciavano proprio allora a mettersi a cenare non appena lo vide agatone disse aristodemo giungi proprio nel punto migliore per cenare con noi ma se un'altra ragione per cui sei venuto rinviala pure a dopo perché anche ieri pur cercandoti per invitarti a cena non sono stato capace di trovarti ma come mai non conduci anche socrate da noi ed io diceva pur volgendomi indietro non riuscivo a vedere che socrate mi seguisse da una qualche parte dissi dunque che ero venuto con socrate essendo stato da lui invitato lì per la cena è fatto proprio bene mi rispose ma dov'è lui da dietro alle mie spalle poco prima stava entrando ma io pure mi meravigliavo dove mai fosse non ti affretti dunque ragazzo a vedere dov'è socrate e condurlo qua disse agatone tu intanto aristodemo continuò sdraieti pure presso erissimaco e disse pure al ragazzo di lavarlo perché potesse estraiarsi e intanto giunse un altro dei servitori ad annunciare socrate è tornato indietro nel portico vicini e se ne sta lì immobile e per quanto io lo chiami lui non vuole venire dici una cosa ben strana aggiunse non lo chiami dunque senza dargli un po di tregua ed egli saltò su a dire no assolutamente lasciatelo stare egli ha questa abitudine talvolta si ritira dovunque capita e se ne sta lì fermo ma verrà subito come io ritengo non sollecitatelo dunque ma lasciatelo stare occorre fare così se a te pare opportuno disse agatone intanto però ragazzi portate la cena a noi altri già voi avete l'abitudine di imbandire la tavola come volete se qualcuno non vi sorveglia cosa che io non ho mai fatto ma ora fingendo che io e questi altri siamo stati invitati a cena da voi serviteci in modo che noi vi dobbiamo lodare come vedete queste cose cominciarono a cenare ma socrate non entrava agatone spesso ordinava ai servi di andarlo a chiamare ma aristodemo non gli consentiva di farlo giunse dunque socrate dopo aver fatto passare molto tempo come era abituato ma essi cenando erano ormai giunti a metà ma agatone che per caso si trovava sdraiato nell'ultimo divano da solo gli disse veni qua socrate sdraiati vicino a me perché posso godere anch'io essendo molto vicino a te di quella sapienza che ti sia applicata quando te ne stavi sotto al portico è evidente infatti che l'hai trovata e che la conservi tuttora se no non ti saresti allontanato di là e socrate si mise a sedere e disse andrebbe proprio bene agatone se la sapienza fosse tale da fluire da quello di noi che ne è più pieno a quello che ne è maggiormente vuoto come avviene per l'acqua nei bicchieri che attraverso un piccolo batuffolo di lana scorre da quello più pieno a quello più vuoto se la cosa sta così anche per la sapienza io ho in grande considerazione l'essere sdraiato vicino a te ritengo infatti che io sarò riempito di molta e bella sapienza da parte tua la mia infatti è ben poca cosa e alquanto incerta quasi come un sogno la tua invece è brillante e possiede molte possibilità di incremento e brilla così con tanta forza da parte tua che sei così giovane davanti a più di 3000 greci che ne furono testimoni sai impudente o socrate disse agatone ma di questo giudicheremo fra poco tu e io a proposito della sapienza avvalendoci di dioniso come giudice ora soprattutto volgiti pure alla cena dopodiché continuava aristodemo socrate si sdraiò e cenò come anche tutti gli altri e fecero le libagioni e innalzarono inni in onore del dio e compirono quante altre cose ed uso fare e si volsero al bere e pausania cominciando a parlare imbastì un discorso super giù come questo orsù amici in che modo potremo bere il più agevolmente possibile perché io vi dico proprio che in realtà dopo la bevuta di ieri mi trovo alquanto a disagio e ho bisogno di un certo sollievo come penso anche parecchi di voi ieri infatti eravate presenti pensate dunque in che modo possiamo bere nel modo che ci torni più lieve e aristofane aggiunse e in questo dici proprio bene pausania occorre scogitare in ogni modo con qualche sollievo al bere perché anch'io sono uno di quelli che ieri vi si sono tuffati e uditili erissimaco figlio di acumeno esclamò dite davvero bene ma ho bisogno di sentire ancora uno di voi come se la passa a proposito di avere la forza di continuare a bere agatone niente affatto rispose quello nemmeno io nemmeno io ho più forza di andare avanti possa assisterci ermes continuò erissimaco come pare a me ad aristodemo e fedro e a questi altri se voi che siete stati sempre i più resistenti a bere ora invece rinunziate a farlo noi invece da sempre siamo poco portati a bere faccio eccezione per socrate in questo discorso lui è ben capace di cavarsela nell'uno e nell'altro modo tanto che sarà ben contento in qualunque modo noi facciamo ma poiché mi pare che nessuno dei presenti sia ben disposto a bere molto vino forse dovrei riuscirvi meno spiacevole se parlando intorno all'ubriacarsi io espongo la verità qual è a me infatti come penso questo è apparso chiaro dalla pratica con la medicina che l'ubriacarsi è cosa dannosa per gli uomini né io di mia spontanea volontà vorrei trovarmi troppo avanti nel bere né lo consiglierei a un altro specialmente se ha gozzovigliato anche il giorno precedente certamente disse interrompendolo fedro di mirrinunte io sono sempre abituato a darti ascolto specialmente quando tratti di medicina e ora lo faranno anche gli altri se vorranno decidere per il bene udendo queste considerazioni tutti concordarono di fare la riunione in quella circostanza senza ubriacature ma che bevessero così a loro gusto a quel punto continuò erissimaco siccome è sembrato bene che ciascuno beva quanto desidera e non vi sia costrizione alcuna consiglio allora di accomietare la flautista che è entrata in questo momento che vada a suonare per sé dove vuole o per le donne di casa e noi oggi di starcene insieme fra noi a fare i nostri discorsi e quali discorsi poi se volete desidero anche suggerirveli tutti risposero di sì e desideravano anche incoraggiarlo a dare il suo suggerimento disse dunque erissimaco l'inizio del mio discorso avviene come nella melanippede di euripide l'argomento che sto per svolgere non è mio ma di fedro qui presente fedro infatti ogni volta pieno di irritazione mi parla non è curioso mi dice erissimaco che mentre per gli altri dei sono stati composti dai poeti inni e peani per eros invece che è un dio tanto grande e importante nemmeno uno di questi poeti abbia mai composto un solo encomio se prendi a considerare i migliori sofisti ad esempio l'ottimo prodico scrivono sempre in prosa encomi di eracle ed altri e questo è ancor meno da suscitare meraviglia perché mi è capitato un libro di un saggio nel quale si trattava del sale con sorprendenti elogi circa la sua utilità e molte altre cose si fatte potresti vedere ricoperte di elogi e consumarsi tanto zelo su inezie simili ma nessuno degli uomini fino al giorno d'oggi ha osato ritenere cosa degna innalzare inni in onore di eros fino a questo punto non ci si prende cura di un dio tanto grande e a me pare che a questo proposito fedro dica bene desidero dunque dedicargli la mia benevolenza e dagli soddisfazione e mi pare che in questo momento per noi qui radunati sia ben conveniente onorare questo dio se questo pare giusto anche a voi vi sarebbe un adeguato impiego di tempo per i nostri discorsi a me pare che ciascuno di noi debba comporre un discorso in lode di eros a cominciare da destra e che sia il più bello che può e che a dare inizio per primo sia fedro perché è straiato in prima posizione ed è anche il padre del discorso nessuno voterà contro di te e rissimaco disse socrate non certo io che sostengo di non sapere niente altro se non d'amore e neppure agatone e pausania e nemmeno aristofane che passa tutto il tempo tra dioniso e afrodite e nessun altro di quelli che io vedo qui sebbene per noi che siamo sdraiati qua come ultimi tutto questo non avviene alla pari ma se quelli che parleranno prima diranno bene a sufficienza potrà bastarci ma con buona fortuna cominci fedro e tessa le lodi di amore anche tutti gli altri si dissero d'accordo e invitavano a fare quello che aveva detto socrate di tutte le cose che ciascuno disse non poteva ricordarsi aristodemo e neppure io tutto quello che lui mi raccontò ma i punti più salienti dunque e quelli di cui mi sembrò degno conservare la memoria di questi appunto io narrerò a voi il discorso di ciascuno per primo a parlare come dico raccontava aristodemo fu fedro che cominciò un pressapoco di qui che amore è un dio grande e degno di suscitare meraviglia tra uomini e dei per vari e parecchi motivi ma non meno per la sua nascita il fatto che tra gli dèi è il più antico essere tenuto in pregio sosteneva egli è prova di questo non esistono i genitori di amore e non se ne è parlato da parte di nessuno né prosatore né poeta ma esiodo afferma che in un primo tempo c'era il caos poi in seguito la terra dall'ampio seno sempre sede sicura di tutte le cose e amore con esiodo concorda anche a cusilao dicendo che dopo il caos sorsero questi due la terra e amore per menide narra così la genesi dell'universo per primo tra tutti gli dèi si prese cura di amore e così da ogni dove si è d'accordo che amore è il più antico oltre ad essere il più antico per noi è anche cagione di beni più grandi infatti non so dire quale bene sia più grande mentre uno è giovane che avere un eccellente amatore e per l'amatore un eccellente giovanetto perché quel che deve essere il punto di riferimento per tutta la vita per coloro che si propongono di vivere nobilmente questo appunto non possono determinarlo tanto bene né parentela né onori né ricchezza niente altro insomma come amore ora come posso dire sia questo vergogna per le torpitudini desiderio di gloria per le belle imprese e senza di queste non è possibile che una città né un uomo possano compiere belle azioni e sostengo pure che un uomo quando ama se viene scoperto a compiere cosa indegna o subire torto da qualcuno senza che si difenda per mancanza di coraggio non prova tanto dolore quando è visto dal padre dagli amici da qualunque altro quanto ne prova se è visto dal proprio amato la stessa cosa osserviamo che avviene anche in colui che è amato che si vergogna in ben altra maniera dei propri amatori quando viene sorpreso in qualche mala azione se vi fosse dunque qualche possibilità perché una città o un esercito fossero costituiti per intero da amatori e da amati non vi è modo per cui potessero disporre meglio alla propria esistenza tenendosi lontano da ogni bruttura e garaggiando tra di loro in desiderio di gloria e combattendo insieme gli uni con gli altri essi vincerebbero anche se in pochi per così dire tutti gli uomini infatti l'uomo che ama sarebbe disposto ad essere visto da tutti gli altri mentre abbandona la posizione o getta via le armi più che dal proprio amato e sceglierebbe di morire più volte invece di questo e quanto ad abbandonare l'amato o non portargli aiuto quando corre pericolo non c'è nessun vile a tal punto che amore stesso non lo renda pieno di ardore in valore tanto da eguagliarlo anche a chi è valorosissimo per natura e insomma quel che sostiene omero che un dio ispira coraggio in taluni eroi questo conservandolo presso di sé amore offre agli amanti e solo quelli che amano sono pronti anche a morire e non solo in quanto uomini ma anche le donne e di questo la figlia di pelia alcesti offre sufficientemente testimonianza ai greci su questo nostro discorso essendo pronta essa sola a morire per il proprio uomo pure avendo egli ancora il padre e la madre che essa vinse a tal punto in affetto a causa del suo amore che le mostrò estranei rispetto al loro figliuolo e parenti soltanto di nome e così facendo parve aver compiuto un'opera nobile non solo agli uomini ma anche agli dèi tanto che essi concessero questo dono solo a pochissimi fra i tanti che pure avevano compiuto molte e nobili imprese di lasciare tornare indietro dall'ade la loro anima quella di alcesti la rimandarono di nuovo in vita pieni di ammirazione per quel che aveva compiuto così anche gli dèi onorarono soprattutto lo slancio e il valore che è insito nell'amore orfeo invece figlio di eagro lo fece tornare indietro dall'ade senza risultato mostrandogli soltanto una immagine della sua donna per la quale aveva compiuto il viaggio ma non concedendogliela perché da suonatore di cetra qual era era apparso piuttosto vile e non aveva osato in virtù del proprio amore morire come alcesti ma aveva escocitato un espediente per penetrare vivo nell'ade per queste ragioni gli fecero pagare lo scotto e disposero che la sua morte avvenisse ad opera di donne non certo nella maniera con cui onorarono achille figlio di teti che essi mandarono anche nelle isole dei beati perché pur sapendo dalla madre che sarebbe morto dopo aver ucciso ettore e che non facendo questo se ne sarebbe tornato a casa a morire da vecchio osò scegliere di recare aiuto a patroclo suo amante e non solo di morire cogliendo la propria vendetta ma di fare seguito subito con la propria morte a lui che era appena morto per questo gli dei stracolmi di ammirazione lo onorarono diversamente da ogni altro poiché aveva fatto così gran conto del proprio amante eschi lo dice delle frottole quando sostiene che achille era l'amante di patroclo poiché egli era più bello non solo di patroclo ma di tutti gli eroi e ancora imberbe poi anche molto più giovane come dice omero ma in realtà gli dei onorano particolarmente questa virtù che è insita in amore e ancor più ammirano e si compiacciano e fanno del bene quando è l'amato che rivela il suo amore all'amante che non quando è l'amante a rivelarlo all'amato amante infatti è un qualcosa di più divino dell'amato perché è pieno di ardore da parte del dio proprio per questo e si hanno onorato achille ancor più di alcesti mandandolo alle isole dei beati così io sostengo che amore è il più antico fra gli dei il più meritevole di onore e quello che è più padrone di spingere gli uomini da vivi e da morti all'acquisto della virtù e della felicità aristodemo raccontava che fedro aveva tenuto un discorso presso a poco come questo e dopo fedro avevano pure parlato alcuni dei quali egli non si ricordava bene e quindi lasciato lì da parte cominciò a disporre il discorso di pausania ed egli disse non mi sembra o fedro che sia stato proposto bene il discorso da noi a svolgerlo semplicemente così cioè a tessere gli elogi di amore perché se amore fosse soltanto uno andrebbe bene così ma egli non è uno solo e poiché non è soltanto uno è più giusto prima di parlare dire quale si deve lodare io dunque tenterò di correggere questo lato col dire anzitutto l'amore che si deve lodare poi di tesserne le lodi in maniera degna di un dio sappiamo tutti infatti che afrodite non è senza amore dunque se essa fosse una sola uno sarebbe amore ma siccome ve ne sono due ne segue necessariamente che due siano anche gli amori una è più antica non ha madre e figlia di urano ed è quella che chiamiamo urania l'altra più giovane figlia di zeus e di didone è quella che chiamiamo pandemia ne consegue dunque che anche amore quello che si accompagna con la seconda venga chiamato giustamente pandemio l'altro invece uranio occorre dunque lodare tutti gli dei ma occorre anche cercare di dire quello che l'uno e l'altro hanno avuto in sorte di peculiare ogni modo di agire è così infatti quello che viene compiuto di per sé non è né bello né brutto quanto noi facciamo in questo momento o bere o cantare o intrattenerci a parlare nessuna di queste cose è bella di per sé ma nel modo di farla come viene fatta tale riesce quello che viene fatto bene e correttamente risulta bello quello che non è fatto bene è brutto così anche l'amare e non ogni amore è bello e meritevole di essere lodato ma soltanto quello che spinge ad amare bene l'amore che si accompagna da fruddite pandemia è veramente volgare e agisce come gli capita ed è proprio quello che amano gli uomini di poco conto essi per prima cosa amano le donne non meno che giovanetti e di questi poi amano più i corpi che le anime e poi hanno presa solo sui più insensati guardando solo di mandare a defetto il loro desiderio senza darsi pensiero se questo avviene in bella maniera o no di qui accade loro che capitino a fare questo sia bene che male e questo infatti avviene alla dea che è molto più giovane dell'altra e che per origine è partecipe sia della femmina che del maschio quello invece che proviene da urania in primo luogo a parte non della femmina ma solo del maschio ed è questo l'amore per i giovanetti poi essa è più anziana ed è priva di tracotanza perciò quelli che sono ispirati da questo dio sono attratti verso il maschio amando quello che per natura è più forte e a maggior senno ed anche in questo tipo di amore per i giovanetti si può riconoscere chi è mosso sinceramente da questa maniera di amare non li amano infatti fin da fanciulli ma quando cominciano ormai ad acquistare intelligenza e questo ci accompagna allo spuntare della barba infatti io penso che quelli che cominciano ad amarli da questo momento sono preparati a stare insieme tutta la vita e a convivere in comunanza e non a ingannarli come cogliendo uno da giovane in un momento di sconsideratezza abbandonarlo con ogni derisione e correre dietro a un altro occorrerebbe dunque una legge ad impedire che si amino i fanciulli per non spendere inutilmente tanto zelo verso un qualcosa di incerto non è chiara infatti la riuscita dei giovanetti ove potrà concludersi per colpa o per virtù sia per quel che riguarda l'anima che il corpo di buon grado gli uomini assennati questa legge se la propongono da sé ma occorrerebbe anche che questi amatori volgari fossero piegati a fare altrettanto come noi li pieghiamo per quanto ci è dato a non amare donne nate libere sono essi infatti che creano tanta vergogna tanto che alcuni osano dire che cosa turpe mostrarsi compiacenti a quelli che amano lo dicono osservandoli attentamente e vedendone le inopportunità e l'aniquizia perché nessuna cosa si avviene nell'ambito della compostezza e delle buone maniere può essere giustamente sottoposta a biasimo e ancor più la norma per i casi di amore nelle altre città è facile da capire ed è delimitata con semplicità qui invece ed anche a sparta è intricata nell'elida infatti e tra i beoti e anche ove non sono abili a parlare è stato disposto con semplicità che avere compiacenza per chi ama è cosa bella e nessuno giovane o vecchio direbbe che è cosa brutta per non avere la questione penso di dover tentare di convincere i giovani a parole essi che non hanno tante capacità a parlare nella ionia invece e altrove in parecchi luoghi è ritenuta cosa brutta specie da quanti si trovano sotto il dominio dei barbari per i barbari infatti anche a causa delle tirannie cui sono sottoposti questo riesce brutto come anche la filosofia e l'amore per l'educazione fisica non conviene infatti a chi comanda penso io che nei sudditi si ingenerino grandi modi di pensare né amicizie sicure né comunanze che soprattutto l'amore tra le tante altre cose è solito determinare di fatto questo lo capirono anche i tiranni di qui infatti l'amore di aristogitone e l'affetto di armodio divenuto ben sicuro infransero il loro dominio e così dove fu posto che avere compiacenza per gli amanti è cosa brutta questo avvenne per viltà di quelli che lo disposero per la tracotanza dei governanti e per la mancanza di coraggio dei sudditi ove fu posto semplicemente che cosa bella questo avvenne per l'indolenza d'animo di chi lo predispose qui è stata disposta una norma molto più bella ma come dicevo non è facile da comprendere per chi medita infatti si dice che cosa più bella amare manifestamente che di nascosto e specialmente i più nobili e i migliori anche se sono più brutti e che il sostegno concesso da parte di tutti a chi ama è meraviglioso come fosse rivolto a chi non compie una cosa brutta e che pare bella a chi riesce a coglierla e brutta invece a chi non vi riesce e che per riuscire a cogliere quello che ha intrapreso la nostra consuetudine offre all'amante la possibilità di compiere cose incredibili e di esserne anche lodato cose che se uno osasse compierle inseguendo qualunque altro obiettivo e volesse compierle ad eccezione di questo ne ricaverebbe la più gran vergogna da parte della saggezza se uno infatti per accumulare ricchezze per ottenere una carica o qualunque altro potere volesse fare quello che gli amanti fanno per gli amanti le suppliche le preghiere in mezzo alle ripetute istanze i giuramenti che compiono le dormite presso le porte gli atti di servaggio che desiderano compiere quali non farebbe nessun servo sarebbe impedito a compiere simili geste da amici e nemici gli uni cercando di farlo vergognare per le sue adulazioni e i suoi atti servili gli altri cercando di ammonirlo e provocando vergogna per lui mentre se tutte queste cose le compie uno che ama ne ottiene benevolenza e dal nostro costume gli viene concesso di farle senza vergogna come se si facesse una cosa assolutamente bella e quel che è più sorprendente come sostengono i più è che a lui solo quando ha giurato viene usata indulgenza da parte degli dèi se va oltre i giuramenti perché dicono che non è un giuramento quello d'amore così gli dèi e gli uomini hanno concesso ogni possibilità a chi ama come indica chiaramente il costume qui in vigore e sotto questo aspetto si potrebbe pensare che in questa città è ritenuta cosa bellissima e l'amare e l'essere benevoli a chi ama ma allorché i padri collocano accanto ai loro ragazzi dei pedagoghi e non consentono a quelli che sono amati di parlare con gli amanti e al pedagogo vengono imposte tassativamente e al pedagogo vengono imposte tassativamente queste disposizioni i coetanei e i loro compagni li scherniscono se vedono accadere un qualcosa di simile e i più attempati non trattengono né rimproverano quelli che sollevano il biasimo come se dicessero cose non giuste se uno dunque osserva queste cose potrebbe pensare a sua volta che qui un tal modo di amare è considerato molto brutto ma la questione non è semplice come si è detto all'inizio e in sé per sé non è né bella né brutta ma quel che viene fatto bene è bello e brutto quel che viene fatto male e cosa brutta quando si ha compiacenza per uno abbietto e in maniera abbietta è bella invece quando la si prova per uno meritevole e in maniera bella abbietto è l'amante volgare è innamorato più del corpo che dell'anima non è un individuo che resti saldo come salda non è nemmeno la cosa che gli ama infatti quando svanisce il fiore della bellezza del corpo del quale era preso si ritira a volo adonta dei molti discorsi e delle promesse chi invece si è innamorato dello spirito quando è nobile resta costante per tutta la vita perché si è attaccato a una cosa che resta ben salda il nostro costume esige dunque che costoro vengano ben provati e che a questi si dia compiacenza e quelli invece vengono rifuggiti per questi motivi dunque spinge ad inseguire questi e a rifuggire quelli nell'intento di giudicare e provare a quale mai delle due specie appartenga l'amante e a quale l'amato così secondo questo motivo si ha l'abitudine di giudicare brutto per prima cosa il farsi conquistare subito perché si chiede che sopraggiunga tempo quello che pare mettere bene alla prova molte cose poi viene considerato brutto farsi prendere dalla speranza di ricchezza e di potere politico sia che uno subendo un'offesa si prenda paura e non si mostri capace di reagire sia che venendo beneficiato in ricchezza o in maneggi politici non ne dimostri il doveroso distacco nessuna infatti di queste due cose pare sicura e salda anche se si eccettua il fatto che da esse per natura non può venirne una nobile amicizia secondo il nostro costume dunque resta una sola via se l'amato vuole provare compiacenza in bella maniera all'amante noi abbiamo dunque questo costume come per gli amanti non era adulazione né vergogna voler servire qualunque servitù per i loro amati così rimane un'altra sola servitù volontaria essa pure non vergognosa ed è proprio quella che riguarda la virtù è sempre stata consuetudine da noi che se uno vuole assumersi una qualche servitù ritenendo che mediante quella diverrà migliore o in saggezza o in qualche altro aspetto della virtù questa servitù volontaria non debba essere considerata disdicevole e nemmeno adulatoria occorre che queste due usanze si concilino in una sola l'una che riguarda l'amore per i giovanetti e l'altra la filosofia e ogni altra branca della virtù se deve accadere che sia bello per un giovanetto provare compiacenza per il proprio amante quanto infatti l'amante e il giovanetto giungono allo stesso punto avendo ciascuno la propria linea di condotta l'uno pronto a servire il giovanetto che lo ha compiaciuto in qualunque cosa è giusto servirlo l'altro che è pronto ad aiutare chi lo rende saggio e buono in tutto quello che è giusto aiutarlo e l'uno che può contribuire per l'altro verso la saggezza e ogni altra forma di sapienza a questo punto concorrendo queste due linee di condotta allo stesso punto soltanto in questo frangente accade che sia bello per un giovanetto compiacere il proprio amante non in altro in questo caso anche essere ingannato non comporta nulla di brutto in tutti gli altri invece ne viene vergogna sia per chi è ingannato sia per chi non lo è se infatti un giovanetto ha compiaciuto il proprio amante credendolo ricco proprio per averne ricchezze ed essendo ingannato non ne ha ricevuto perché l'amante si è rivelato povero la cosa non è di meno brutta pare infatti che un giovane di tal fatta per denaro avrebbe dimostrato di assoggettarsi a qualunque cosa e per chiunque e questo non è certo bello secondo lo stesso ragionamento anche se uno è stato compiacente con un amante che ha creduto buono e col proposito di diventare gli stesso migliore attraverso l'amicizia con l'amante e viene ingannato poi si è mostrato che quello è uno da poco e non possiede virtù tuttavia questo inganno è bello pare infatti che anche questo giovane abbia dimostrato secondo le sue possibilità che per la virtù e per divenire migliore era disposto a tutto e con chiunque e questa è senza dubbio la cosa più bella fra tutte è bello in tutti i modi dunque a causa della virtù mostrarsi compiacenti questo dunque è l'amore della dea celeste ed è celeste esso stesso e degno di molta considerazione e in città e per i singoli cittadini perché spinge sia colui che ama sia l'amato ognuno nel proprio ambito a prendersi molta cura per il conseguimento della virtù tutti gli altri tipi di amore appartengono all'altra afrodite quella volgare queste considerazioni disse sull'amore io ti espongo fedro come mio contributo per l'immediato quando pausania fece pausa sono i sapienti a insegnare a me simili espressioni in tal guisa aristodemo disse che doveva parlare aristofane ma a lui o per sazietà o per altro motivo capitava di essere stato colto dal singhiozzo e non era in grado di parlare ma si appellò a lui alla sua destra se ne stava sdraiato il medico erissimaco erissimaco a questo punto occorre che tu mi faccia cessare questo singhiozzo o che tu parli invece mia finché non mi sarà passato ed erissimaco gli rispose farò l'una e l'altra cosa insieme io parlerò per la tua parte e tu quando ti sarà passato per la mia ma tu intanto che io parlo stando per lungo tempo senza respirare farai passare così spontaneamente il singhiozzo se no fai dei gargarismi con acqua ma se resiste alla grande prendi pure un qualcosa da irritare il naso e fai degli sternuti e quando avrai fatto questo una o due volte anche se del tutto inesistente ti passerà comincia pure a parlare rispose aristofane io farò così erissimaco dunque disse siccome pausania ha dato inizio al suo discorso molto bene ma non lo ha sufficientemente concluso mi pare che sia necessario tentare di porre io una conclusione al suo dire che amore dunque sia duplice pare a me che sia un distinguere bene che però si trovi non solo nelle anime degli uomini per i belli e per molte altre cose e si trovi pure altrove come nei corpi di tutti gli animali in tutto quello che è generato dalla terra e per così dire in tutto quello che è credo di aver potuto osservarlo bene dalla medicina la nostra arte che questo è un dio grande e meraviglioso ed estende la sua influenza su tutte le cose umane e su quelle divine comincerò dunque a dire partendo dalla medicina anche per rendere omaggio all'arte la natura dei corpi infarti possiede in sé questo duplice amore la salute del corpo infatti e la malattia sono per comune consenso cose diverse e il dissimile desidera ed ama i dissimili altro dunque è l'amore nella parte sana altro nella parte malata come sosteneva poco fa pausania è bello mostrare compiacenza agli uomini buoni è brutto invece mostrare agli abbietti così e anche per gli stessi corpi che è bello compiacere dare soddisfazione e si deve alle parti buone e sale di ciascun corpo e questo è appunto quello cui si attribuisce il nome di medicina mentre è brutto e non si devono compiacere le parti brutte e malate di essi se uno intende essere in linea con l'arte la medicina infatti per dire in breve è la conoscenza degli impulsi erotici del corpo alla pienezza e alla vacuità e colui che riconosce in questi l'amore bello e quello brutto questo è proprio il medico più sagace e chi è capace poi di farne il cambio tanto che invece di un amore se ne procuri un altro e ove l'amore non c'è e occorre che ci sia sa ingenerarlo e toglierlo da dove esiste questo è realmente un artefice senza pari occorre anche che le parti del corpo che sono tra di loro particolarmente nemiche egli sia in grado di renderle amiche e di amarsi tra loro le cose più nemiche fra loro sono quelle contrastanti al massimo grado come il caldo al freddo l'amaro al dolce il secco all'umido e tutte le altre cose con simili e ben sapendo come ingenerare amore e concordia in esse il nostro progenitore a sclepio come dicono questi poeti e io ne sono convinto pose le fondamenta alla nostra arte la medicina dunque è tutta regolata da questo dio allo stesso modo avviene per la ginnastica l'agricoltura la musica poi è evidente per chiunque purché rivolga attenzione a queste cose anche per un po si trova nella stessa condizione come forse vuole dire anche eraclito mentre non si esprime bene nel suo detto l'uno e gli afferma che è in dissenso con se stesso può anche accordarsi come armonia di arco e di lira ed è molto paradossale affermare che l'armonia si trovi in dissenso o che sussista da principi ancora discordanti ma probabilmente voleva intendere che l'armonia è generata dall'arte musicale da principi l'acuto e il grave che erano discordi in un primo tempo e poi si sono accordati certamente infatti se l'acuto e il grave non cessano di essere discordi l'armonia non può sussistere armonia infatti è accordo e l'accordo è assenso ma l'assenso da principi discordi finché ammette assenso è impossibile da armonizzare così anche il ritmo sussiste dall'andante e dall'ento in un primo tempo discordi e poi accordati in tutti questi aspetti poi il consenso lo genera la medicina qui la musica che determinano amore e armonia fra di loro così anche la musica è conoscenza di impulsi d'amore circa l'armonia ed il ritmo e così nella formazione stessa dell'armonia del ritmo non è difficile riconoscere gli impulsi d'amore né qui l'amore è duplice ma quando ci si deve avvalere del ritmo e dell'armonia per gli uomini o quando si fanno componimenti che chiamiamo melici o quando ci si avvale correttamente della melica già composta e dai metri cosa che viene chiamata preparazione allora diventa cosa proprio ardua ed è necessario un ottimo artefice ed infatti torna di nuovo lo stesso discorso che agli uomini educati e al fine di rendere più educati quelli che ancora non lo sono bisogna attribuire compiacenza e curare benevolmente il loro amore e questo è l'amore della musa urania ma all'amore di pollinia il volgare bisogna fare il corso con attenzione da parte di chi vi ricorre in modo che si gusti il piacere che viene da esso ma non cagioni alcune intemperanze come anche nella nostra arte è compito importante valersi bene dei desideri che riguardano l'arte culinaria in modo che se ne possa cogliere il piacere senza malanno e così nella musica nella medicina e in tutte le altre attività umane e divine per quanto è dato bisogna bene osservare l'uno e l'altro di questi amori infatti sussistono ambedue poiché anche la formazione delle stagioni è piena di ambedue questi elementi e quando quelli contrastanti dei quali parlavo poco fa come il freddo il caldo il secco e l'umido incontrano l'un l'altro per sorte un amore equilibrato e ricevono armonia e adeguata congiunzione allora giungono portando prosperità e salute agli uomini agli altri esseri viventi alle piante e non recano alcun guasto ma quando invece l'amore diventa incontenibile e in furia violento durante le stagioni dell'anno produce guasti e distrugge molte cose i contagi infatti e molte diverse malattie contro le bestie e le piante traggono origine di solito da queste cause le gelate le grandinate le ruggini delle piante avvengono per la soverchieria e il disordine reciproco insito in tali forme di attrazione la scienza delle quali per quel che riguarda il movimento degli astri e l'alternarsi delle stagioni viene chiamata astronomia e ancora tutti i sacrifici e le attività cui sovraintende la mantica cioè i rapporti di comunanza che sussistono fra uomini e dei non riguardano altro se non la sorveglianza e la cura di amore ogni forma di impietà del resto suole avvenire se non si compiace non si onora non si venera l'amore equilibrato in ogni azione ma l'altro amore verso i genitori vivio morti e anche verso gli dei cose che sono state assegnate alla divinazione per proteggere e curare gli amanti ed è proprio la mantica autrice dell'amicizia fra uomini e dei per conoscere bene tra le spinte d'amore degli uomini quelle che tendono alla giustizia e alla pietà così molteplice grande anzi senza limiti al potere che amore ha nella sua integrità ma quello che con misura giustizia raggiunse il suo termine nel bene per noi uomini e per gli dei questo possiede la potenza più grande e ci procura ogni felicità ci mette in grado di vivere in comunanza e di essere amici tra di noi e con quelli che sono migliori di noi vale a dire gli dei forse anch'io tessendo le lodi di amore ometto molte cose ma non per mia scelta se ho tralasciato qualche aspetto è compito tuo aristofane col mare il vuoto ma se ti proponi di alloggiare il dio in altro modo fallo pure ora che ti sei liberato dal singhiozzo aristodemo disse dunque che subentrò aristofane e disse che sì gli era passato ma non prima che vi avesse applicato lo sternuto tanto che mi sono meravigliato se l'equilibrio del corpo ha bisogno di strepiti e sollecitamenti quali lo sternuto tuttavia non appena gli ho applicato lo sternuto è passato subito ed erissimaco intervenne o buona aristofane guarda bene quel che fai ti metti a scherzare quando devi parlare e mi obblighi a far la guardia al tuo discorso nel caso che tu abbia a dire delle ridicolaggini mentre ti è pur possibile parlare in pace e aristofane ridendo rispose dici bene erissimaco e quel che ti ho detto sia come non detto ma tu non fare la guardia a me perché io temo riguardo le cose che sto per dire di non combinare un discorso da ridere che sarebbe pure un guadagno e molto congeniale alla mia musa ma piuttosto un discorso da irridere pur lanciando il colpo rispose erissimaco pensi di ritrarre la mano ma presta bene attenzione e parla in modo come se dovessi darne ragione e forse se ne avrò l'estro io ti lascerò fare caro erissimaco rispose aristofane ho in mente di esprimermi in maniera diversa da quelle con cui avete parlato a me infatti pare che gli uomini non conoscano assolutamente la potenza di amore perché se la conoscessero già innalzerebbero templi ed altari grandissimi e farebbero in ono suo grandissimi sacrifici non come ora che di queste celebrazioni per lui non si fa nulla mentre sarebbe necessario che fra tutti si facessero particolarmente per lui egli infatti tra gli dèi è il più benevolo agli uomini perché è loro soccorritore ed anche medico di taluni malanni che se condotti a guarigione grandissima prosperità ne verrebbe al genere umano io tenterò dunque di esporvi tutta la sua potenza e voi a vostra scelta ne sarete maestri agli altri ma innanzitutto occorre che conosciate la natura umana e i suoi casi già che la natura di noi uomini un tempo non era la stessa quale è ora per noi ma diversa per prima cosa tre erano i generi della stirpe umana non due come ora masco e femmina ma venera anche un terzo che era comune ad ambedue questi del quale oggi resta soltanto il nome ma esso si è perduto infatti l'androgeno allora era un genere a sé e aveva forma e nome in comune dal maschio e dalla femmina ora invece non c'è più ma resta soltanto il nome sotto forma di ignominia la forma di ciascun uomo era rotonda aveva la schiena e i fianchi di aspetto circolare aveva pure quattro mani quattro gambe e due volti su un collo rotondo del tutto uguali sui due volti che poggiavano su una testa sola dai lati opposti vi erano quattro orecchie due organi genitali e tutto il resto come può immaginarsi da tutto questo si camminava in posizione eretta come ora e dove si voleva e quando si disponevano a correre velocemente come i saltimbanchi a gambe levate fanno capitomboli di forma circolare così essi facendo perno sulle otto gambe si muovevano velocemente in cerchio erano poi tre generi e combinati in questo modo per queste ragioni perché il maschio aveva tratto la propria origine genetica dal sole la femmina dalla terra ma l'uno e l'altro avevano poi parte in comune dalla luna poiché anche la luna a parte in ambedue i sessi erano formati in questo modo e il loro andare assumeva la forma di cerchio per il fatto di essere simili ai loro genitori quanto a forza e vigore erano terribili e nutrivano un sentire orgoglioso e quello che dice omero a proposito di efialte e di oto che tentarono di dare la scalata al cielo per imporsi agli dèi si riferisce loro zeus dunque e gli altri dèi si radunarono a consiglio per stabilire cosa dovevano fare ma si trovarono nell'incertezza non avevano infatti come sopprimerli e farne sparire la razza come i giganti fulminandoli sarebbero scomparsi infatti tutti gli onori e i sacrifici da parte degli uomini nei loro riguardi né d'altra parte come lasciarli andare all'insolenza ma zeus dopo aver pensato e con fatica disse penso di avere un mezzo per il quale gli uomini possono sussistere e cessare la loro insolenza divenendo più deboli dunque ora taglierò ciascuno di essi in due parti uguali e così diverranno più deboli e insieme più utili per noi per essere più numerosi e cammineranno in posizione eretta su due gambe se parrà poi che persistano nella loro insolenza e non vorranno starsene in pace i taglierò di nuovo in due tanto che cammineranno su una sola gamba come quelli che si tengono dritti su un piede solo detto ciò si diede a tagliare gli uomini in due come quelli che tagliano le sorbe in due e ne preparano la conservazione o come quelli che tagliano le uova con un filo e via via che ne tagliava uno dava ordine ad Apollo di volgergli il volto e la metà del collo verso il taglio per rendere l'uomo più misurato alla vista del taglio subito ed ordinava pure di curare tutto il resto e Apollo gli voltava il viso e tirando da ogni parte la pelle sopra quello che ora viene chiamato ventre come borsette che possono restringersi con uno spago facendone una bocca sola la levigava nel mezzo del ventre ed è quello che ora chiamiamo ombelico stendeva poi le altre numerose crepe ed assettava il petto con uno strumento simile a quello che i calzolai usano quando spianano sullo stampo le pieghe del cuoieme ne lasciava poche intorno alla pancia e all'ombelico perché fossero di ammonimento dell'antica esperienza dopo che la natura umana fu divisa in due parti ogni metà per desiderio dell'altra tentava di entrare in congiunzione e cingendosi con le brazza e stringendosi l'un l'altra se ne morivano di fame e di torpore per non volere fare nulla l'una separatamente dall'altra e quando moriva una delle parti e ne restava una sola quella che sopravviveva ne cercava un'altra e vi si abbracciava sia che capitasse nella metà di una donna intera che ora chiamiamo donna sia in quella di un uomo e così raggiungevano la morte Zeus avendone pietà escogitò un altro mezzo e traspose i loro genitali sulla parte anteriore già che fino a quel frangente li portavano all'esterno e generavano e partorivano non fra di loro ma congiungendosi con la terra glieli traspose dunque sul davanti così come ora e dispose la creazione loro tramite tra gli uni e gli altri cioè tra il maschio e la femmina per queste ragioni perché se un maschio si imbatteva in una femmina generassero ed essero continuità alla razza e insieme se un maschio si incontrava con un maschio quando fosse giunta la sazietà del loro stare insieme e vi ponessero termine si volgesse poi ad altre attività e si prendessero cura delle altre faccende della vita da tempo dunque è connaturato negli uomini l'amore degli uni per gli altri che si fa conciliatore dell'antica natura e che tenta di fare un essere solo tra due e di curare la natura umana ciascuno di noi dunque è come un contrassegno d'uomo giacché è tagliato in due come le sogliole da uno divenuto due ciascuno cerca sempre proprio segno di riconoscimento quanti tra gli uomini sono come il taglio di quell'essere duplice che allora veniva chiamato androgino sono amanti delle donne e la maggior parte degli adulteri deriva da quel genere e quante fra le donne sono amanti degli uomini e adultere derivano sempre da quel genere quante fra loro invece derivano dal taglio di una donna queste non vogliono affatto la loro attenzione degli uomini ma sono rivolte invece piuttosto alle donne e da questo genere derivano le etere quanti poi derivano dal taglio di un maschio vanno alla ricerca del maschio e finché sono fanciulli poiché sono piccole parti del maschio amano il maschio e godono di giacere di starsene abbracciati con un maschio e sono questi i migliori tra i fanciulli e i giovinetti perché per natura sono i più coraggiosi alcuni invece sostengono che questi sono senza vergogna ma si ingannano essi fanno questo infatti non per mancanza di pudore ma per il loro ardimento e coraggio e per la loro mascolinità bramano quel che è simile ad essi e ce n'è anche una prova significativa perché fattissi avanti d'età soltanto questi entrano nell'attività politica da uomini e quando poi divengono uomini maturi e amano i ragazzetti volgono la mente alle nozze ai figli non per inclinazione naturale ma perché vi sono tratti dalla consuetudine a loro basterebbe vivere gli uni con gli altri senza nozze uno si è fatto dunque ama i fanciulli o è amante di amatori perché aspira sempre a quel che gli è congeniale e quando dunque questo amatore di fanciulli o qualunque altro venga ad imbattersi proprio in quello che è la sua metà allora sì che restano colpiti per amicizia familiarità amore che non vogliono per dire così essere separati neppure per un attimo e sono proprio questi che continuando a vivere insieme per tutta la vita non saprebbero dire cosa vogliono capiti loro gli uni degli altri e a nessuno può sembrare che questo sia soltanto la comunione dei piaceri d'amore come se solo per questo fossero così contenti di stare insieme l'uno con l'altro e con tanta passione ma è chiaro che l'anima dell'uno e dell'altro vuole anche un'altra cosa che non è in grado di dire ma fa congetture e manifesta simbolicamente poiché se ad essi proprio nel momento che giacciono insieme si accostasse efesto con i propri strumenti e domandasse cos'è dunque uomini che volete che vi succeda l'un dall'altro e trovandosi essi in difficoltà chiedesse ancora forse agognate questo di congiungervi indissolubilmente l'un con l'altro in una sola cosa così da non lasciarvi tra di voi né di giorno né di notte perché se bramate questo sono pronto a fondervi insieme e a comporvi in una sola natura fino al punto che da due diventiate uno solo e finché restate in vita vivrete in comune l'un l'altro come un essere solo e quando poi sopraggiunga la morte là nel profondo dell'ade siate ancora uno soltanto invece di due essendo insieme anche da morti ma considerate bene se proprio questo chiamate e se può bastarvi quando lo abbiate ottenuto udendo tali cose lo sappiamo bene nessuno si trarrebbe indietro né darebbe a vedere di volere qualche altra cosa ma riterrebbe di aver ascoltato una buona volta quello che da tempo desiderava di congiungersi e diffondersi con l'amato e di due divenire uno solo questo è il motivo per il quale la nostra natura antica era così e noi eravamo tutti interi e il nome d'amore dunque è dato per il desiderio e l'aspirazione all'intero prima di tutto questo come dico eravamo una unità sola e ora invece per la nostra colpevolezza siamo stati dispersi dalla divinità come gli arc di dagli spartani vi è timore dunque che non siamo moderati verso gli dèi essi ancora una volta ci taglino in due e ci tocchi andare in giro modellati come i bassorilievi nelle stele con l'iscrizione segati in due nel mezzo del naso divenuti come le tessere di riconoscimento che si danno agli ospiti per questo occorre che ogni uomo si faccia promotore presso ogni altro ad essere pio verso gli dèi per fuggire alcuni mali e ottenere invece quei beni dato che amore è nostra guida e condottiero a questo dio nessuno faccia contrarietà le compie chiunque viene in odio agli dèi poiché divenuti amici era pacificati con lui troveremo e ci imbatteremo nei ragazzetti che diverranno nostri cosa che ora fanno in pochi e non mi interrompa il rissimaco canzonando il mio discorso come se io accennassi a pausania e a gattone perché probabilmente vengono a trovarsi tra questi e ambedue sono maschi per natura dico invece per ogni uomo e ogni donna che solo così il genere umano può diventare felice se diamo soddisfacimento ad amore ed incontrando ciascuno il proprio amato volgendosi verso la nostra antica natura e se questo punto è l'ottimo ne consegue che tra quelli presenti l'ottimo sia quello che gli è più vicino e questo è incontrare un amato che per natura la mente rivolta a ciò inneggiando dunque al dio che ci è causa di queste cose a buon diritto eleveremmo inni in onore di amore che al presente ci giova moltissimo conducendosi a quel che c'è proprio e per il futuro ci offre grandissime speranze che se noi faremo dono agli dèi della nostra devozione riportandoci alla nostra primitiva natura e curandoci ci renderà beati e contenti questo erissimaco disse aristofane è il mio discorso su amore diverso dal tuo come ti pregavo prima non metterti a canzonarlo perché possiamo ascoltare cosa dirà ciascuno di quelli che devono ancora parlare o meglio quei due perché non restano che agatone e socrate ti darò ascolto senza dubbio disse erissimaco perché il tuo discorso secondo me è stato detto molto piacevolmente e se tu non sapessi che socrate e agatone sono profondi nelle questioni d'amore avrai proprio paura che si trovassero in difficoltà per i loro interventi tante e varie sono le cose che sono state dette ora tuttavia spero bene a questo punto dunque intervenne socrate è perché tu il confronto lo hai già svolto bene ma se tu fossi al punto nel quale ora mi trovo io e ancor più forse nel quale mi troverò quando anche agatone avrà parlato e bene dovresti veramente avere paura e ti troveresti in ogni difficoltà come io ora vuoi dunque ammaliarmi salto su agatone perché io mi emozioni ritenendo che il teatro abbia grande attesa nei miei confronti se parlerò bene sarei proprio di memoria corta rispose socrate se dopo aver visto il coraggio e la disinvoltura con cui sei salito sul palco insieme agli attori e come hai affrontato lo sguardo di quella platea gremita mentre stavi per esporre i tuoi ragionamenti senza essere per nulla impressionato ora io dovessi pensare che tutti lasci emozionare da noi che siamo pochi uomini e bene socrate ribatte agatone non penserai certo che io sia così reso fanatico dal teatro da non comprendere che per chi ha un po di senno pochi uomini con la testa sul collo sono più temibili che un mucchio di disennati non farei bene rispose socrate pensando in modo grossolano sul tuo conto so bene che se tu ti imbatti in pochi che ritieni saggi ti preoccupi più di questi che di tutta una folla ma noi non siamo di quelli eravamo presenti anche là e facevamo parte della moltitudine ma se tu ti imbatterai in altri saggi di loro forse potresti provare soggezione se dovessi pensare di fare una parte non bella oppure come vuoi esprimerti dici la verità rispose allora fedro interrompendolo disse se rispondi a socrate caro agatone non gli importerà nulla dove si vada a parare con i nostri argomenti di qua solo che gli abbia qualcuno con cui intavolare una discussione soprattutto poi su un bel ragazzo io ascolto volentieri socrate quando discute ma qui è necessario che mi curi dell'elogio di amore e di raccogliere da ciascuno di voi il vostro intervento facendo dunque per ciascuno la vostra offerta al dio poi intavolate pure la discussione dice bene fedro soggiunse agatone nulla mi impedisce di parlare spesso infatti potrò discutere con socrate anzitutto desidero dire in che modo occorre che io dica poi dirò a mio parere infatti tutti quelli che hanno parlato prima non hanno fatto l'elogio del dio ma hanno celebrato la felicità degli uomini per il bene dei quali il dio è causa per loro ma nessuno ha detto qual è questo dio che ci ha fatto tutti questi doni uno solo è il modo corretto per ogni elogio e su ogni argomento per correre dettagliatamente con il discorso qual è e di quali bene è artefice colui attorno al quale si trova a vertere il discorso così dunque è giusto che anche noi lo diamo amore anzitutto per quale egli è e poi per i suoi doni dico dunque che fra tutti gli dei peati amore se è lecito dirlo e non suscita risentimento è il più felice perché è il più bello e il migliore è il più bello perché è tale anzitutto è il più giovane tra gli dei o fedro e la prova più sicura a questa affermazione se la porce gli stesso fuggendo con la fuga alla vecchiaia che come è chiaro è assai veloce e piomba su di noi più in fretta del necessario ed amore è portato per natura a odiarla e a farle sì vicino neppure un poco ma se ne sta sempre e vive tra i giovani come l'antico detto ben recita che il simile sta sempre accanto al simile ed io pure concordando con fedro in molti altri punti su questo non concordo che eros sia più antico di crono e giappeto ma sostengo che egli è il più giovane degli dei e resta sempre giovane e che quelle antiche contese tra gli dei delle quali parlano esiodo e parmenide avvennero ad opera della necessità e non di amore se si raccontavano il vero non sarebbero avvenute infatti evirazioni e incatenamenti e molti altri episodi di violenza se amore si fosse trovato in mezzo a loro ma amicizia e pace come ora da quando sugli dei signoreggia amore egli dunque è giovane e soave è privo comunque di un poeta come era omero in grado di esaltare la suavità del dio omero infatti afferma che ate è una divinità e che è soave i suoi piedi sono assolutamente delicati dicendo di lei sono delicati i piedi non sul suolo infatti incede ma sopra le teste degli uomini avanza e mi pare che abbia dimostrato la sua delicatezza con una bella prova sostenendo che volge i suoi passi non sul duro ma sul molle della stessa testimonianza savarremo anche noi per amore per sostenere che è delicato in quanto non incede sulla terra né sulle teste che non sono affatto molli ma su tutte le cose più tenere fra quante ne esistono muove i suoi passi e dalla propria dimora egli elegge la propria sede nel carattere e nell'anima degli dei e degli uomini ma non in tutte le anime alla rinfusa ma se si imbatte in un'anima dal temperamento duro l'abbandona se invece dolce ivi fissa la sua sede e trovandosi sempre a contatto e con i piedi in ogni altra forma e con tutte le cose più molli fra le più molli ne segue necessariamente che egli sia il dio più soave è il più giovane dunque è il più soave e oltre a ciò è come flessuoso nell'aspetto non sarebbe infatti in grado di abbracciarsi ovunque né di entrare in ogni anima di nascosto e poi uscirne se fosse inflessibile della sua immagine adorna e flessibile grande prova è avvenenza che amore ha per ammissione di tutti al di sopra di ogni altro infatti fra amore e bruttezza c'è sempre guerra la sua esistenza fra i fiori reca una testimonianza della bellezza della carnagione del dio ovunque infatti non è un fiore o è consumto nel corpo nell'anima o in qualunque altro aspetto lì non si pone amore ma ove invece è un luogo fiorito e profumato ivi si pone e resta attorno alla bellezza del dio possono bastare queste lodi ma ancora molte restano indietro ma dopo questo si deve dire delle virtù di amore la cosa più grande è che amore non fa ingiustizia né la subisce da parte di un dio né contro un dio né da parte di un uomo né contro un uomo né egli soffre per violenza seppure prova qualche sofferenza perché la violenza non si attacca ad amore né quando agisce agisce con violenza perché ognuno volentieri in tutto serve ad amore e le cose che mettono d'accordo chi lo desidera con chi lo desidera le leggi regine della città dicono che è giusto oltre che della giustizia egli a parte anche grandissima nella morigeratezza si concorda infatti che la morigeratezza sia dominare piaceri e desideri e che nessun piacere è più forte di amore e sono meno forti vengono dominati da amore ed egli domina e dominando piaceri e desideri amore è morigerato in modo assoluto e quanto a forza ad amore neppure ares sta innanzi perché non è ares che possiede amore ma amore ares amore diafrodite come dice il mito e più forte di chi è posseduto è chi possiede e così riuscendo superiore a chi è il più forte degli altri egli è il più forte di tutti è stato detto dunque sulla giustizia sulla morigeratezza e sulla potenza del dio ora resta da dire sulla sapienza e anzitutto perché anch'io renda onore alla nostra arte come erissima con la propria il dio è poeta così sapiente da rendere tale anche gli altri ognuno dunque diviene poeta anche se prima era estraneo alle muse se amore viene a contatto con lui ed è utile avvalerci di questa testimonianza che amore in definitiva è un ottimo poeta in ogni sorta di composizione riguardi la musica perché le cose che uno non ha o non conosce non può darle e nemmeno insegnarle ad un altro e in realtà chi potrà contestare che la generazione di tutti gli esseri viventi avvenga per la sapienza di amore per la quale tutto quello che vive si genera e viene alla luce e nella creazione delle arti non sappiamo forse che colui del quale è stato maestro questo dio si fa avanti illustre e famoso mentre chi non è toccato da amore rimane nell'ombra l'abilità nel trarre l'arco la medicina la cognizione del futuro Apollo le ha trovate mentre lo guidavano destriero e amore tanto che anche lui è il discepolo di amore è così per le muse per la creazione poetica Efesto per la lavorazione nel bronzo Atena per l'arte del tessere e Zeus per quella di governare uomini e dei onde si può dire che le vicende degli dei furono appianate a lungere d'amore amore di bellezza è evidente non esiste amore per quel che è brutto ma prima di lui come ha detto all'inizio molte e terribili lotte avvenivano tra gli dei come si racconta a causa del regno della necessità ma quando fu generato questo dio dall'amore per il bello agli dei e agli uomini è venuto ogni bene così dunque Fedro a me pare che essendo amore per primo il più bello e il migliore diviene in seguito a questo anche per gli altri la causa di altrettali qualità e mi viene voglia di dire qualcosa anche in versi dicendo che è lui che crea la pace fra gli uomini e sul mare una tranquillità senza vento luogo di quiete e di sonno nell'affanno dei soffi impetuosi egli ci libera da ogni sentimento di avversione e ci riempie di ogni senso di familiarità stabilendo tali incontri per farci trovare insieme nelle feste nelle danze nei sacrifici quando egli è nostra guida offre bontà scaccia la selvatichezza si fa donatore di malevolenza e non dona malevolenza propizio buono oggetto di ammirazione per gli uomini di stupore per gli dèi invidiato degli sfortunati conquistato da chi ha buona sorte di godimento floridezza bellezza grazia di desiderio brama e padre sollecito per i buoni senza pensiero per i malvagi nel travaglio nel timore nel desiderio nel parlare e nocchiero con militone protettore e salvatore splendido di tutti gli dèi e uomini e ornamento e guida bellissima e valorosissima che ogni uomo deve accompagnare quando innalza inni suavemente prendendo parte alla canzone che egli canta allettando di tutti gli dèi e gli uomini la mente questo discorso disse o fedro al dio si è dedicato da parte mia come dono che a parte un po dello scherzo un po di misurato impegno a seconda di quanto stava in me come agatone pose termine al suo dire tutti i presenti applaudirono fragorosamente poiché quel giovane aveva parlato in maniera degna di lui e della divinità socrate allora guardando erissimaco ti sembra dunque disse o figlio di acumeno che il mio timore di poco fa fosse impudente e che io non dicessi da buono indovino le cose che ora ora dicevo chiagatone avrebbe esposto meravigliosamente e che io mi sarei trovato alle strette da un lato rispose erissimaco mi sembra che tu abbia parlato da indovino sostenendo chiagatone avrebbe parlato bene dall'altro invece non penso che tu sia nell'imbarazzo ma come o te beato ribatte socrate non debbo essere in difficoltà io o chiunque altro mettendomi a parlare dopo un discorso così bello e così variamente congegnato tutte le parti poi seppure in maniera non uguale sono state meravigliose ma alla fine chi non sarebbe profondamente colpito udendo la bellezza di quelle parole e delle frasi quando consideravo che non sarei stato in grado di dire nulla di bello che potesse star vicino a questi argomenti mancò poco che non me ne andassi fuggendo per vergogna se ne avessi avuto qualche possibilità il discorso infatti mi richiama alla memoria tanto che provavo quello di cui parla omero temevo chiagatone finendo di parlare scagliasse contro il mio discorso la testa di gorgia quello straordinario parlatore e mi rendesse come di pietra per mancanza della voce capì allora di essere stato ridicolo accettando di tessere assieme a voi l'elogio di amore e dicendo di essere stato esperto nelle faccende d'amore benché io proprio non sappia come vada la questione se si deve far lode di una qualunque cosa per la mia pochezza poi pensavo si dovesse dire la verità su ogni cosa che si va a elogiare e che questo bastasse nel senso che scegliendo tra esse le più belle si dovessero poi ordinare nel modo migliore e me ne stavo piuttosto rinfrancato al pensiero di parlare bene poiché conoscevo la verità di qualunque cosa si doveva lodare ma pare non era questo il modo di congegnare una bella lode o una cosa qualsiasi ma all'argomento del caso si dovevano pure assegnare le doti più grandi e più belle posto che le avesse o no e tutto era falso non c'è da pensarci si era stabilito infatti come pare che ciascuno avesse l'aria di fare l'elogio di amore ma non lo facesse davvero per questo penso dando dentro ogni discorso fate offerta ad amore e sostenete che è fatto in tal modo e che è causa di tante faccende per farlo apparire il più bello e il più buono che sia possibile è chiaro per chi non lo conosce non certo per chi l'ha già provato e la lode procede in maniera bella e veneranda proprio non mi rendevo conto del modo di concepire questa lode e non conoscendolo avevo accettato anch'io di tessere l'elogio per la mia parte è stata però la lingua a promettere non il cuore ma si lasci pur perdere la lode perché io non lo farò a questo modo del resto non potrei neppure ma se volete la verità voglio parlare secondo il mio solito e non a confronto con i vostri discorsi per non offrirvi materia di riso considera dunque fedro se c'è bisogno di un discorso di questo genere sentire che si dice la verità su amore non quelle parole e con quella disposizione delle frasi quale può capitare a caso fedro allora gli altri raccontava aristodemo lo esortavano a parlare nel modo che pensava si dovesse esporre un'altra cosa continuò o fedro consenti che io chieda qualche piccola cosa ad agatone per vedere di concordare assieme a lui e poi parlare te lo concedo rispose fedro e tu chiedi pure dopo questo disse che socrate cominciò a parlare su e giù a questo modo certo caro agatone mi sembra che tu abbia cominciato bene il tuo discorso dicendo che prima bisogna mostrare amore così com'è e poi le sue opere di un tale inizio mi compiaccio or su dunque poiché su amore hai esposto bene e adeguatamente quale è su ogni altro aspetto dimmi anche questo amore dunque è così fatto che è amore di qualcuno o di nessuno non ti chiedo però di quale madre o padre sia figlio è ridicola infatti la domanda se amore è amore della tal madre o del tal padre ma come su questo stesso fatto io ti chiedessi del padre il padre è padre di qualcuno o no e certo tu mi diresti se volessi rispondere bene che il padre è padre di un figlio o di una figlia o no ma certamente rispose agatone e così dunque è anche per la madre fu d'accordo anche in questo e socrate continuò per un poco ancora rispondimi di più perché tu possa comprendere meglio quello che voglio se tu chiedessi e dunque è fratello perciò che questo è è fratello di qualcuno o no confermò che era così di un fratello di una sorella no dunque fu d'accordo ancora prova dunque riprese a dire ancora su amore amore è amore di qualcosa o di nessuno ma lo è di qualcosa certo questo dunque continuò socrate tenilo presente in te stesso e ricorda di che cosa è ora rispondi a questo amore di quello di cui è amore a desiderio o no ma certo rispose e ciò che desidera e ama lo ha dunque e per questo lo desidera e l'ama o non lo ha non lo ha come pare probabile rispose considera dunque disse socrate se invece di una cosa probabile non sia necessità che il desiderio sia desiderare ciò che manca oppure non desiderare se non se ne è privi a me infatti fa meraviglia ma pare che sia necessità e a te dici bene potrebbe infatti aspirare ad essere grande chi è già grande o forte chi è già forte è impossibile secondo quel che si è detto infatti non può essere privo di queste cose chi già le possiede dici il vero se infatti aggiunse socrate pur essendo forte volesse essere forte e svelto pur essendo svelto e in buona salute pur assendolo poiché non potrebbe ritenere forse che queste doti e tutte le altre simili a queste coloro che le possiedono e sono tali ne hanno desiderio anche quando le hanno al fine di non cadere in inganno lo dico per questo se ci pensi bene agatone è necessario che essi in quel determinato tempo queste doti le abbiano volenti o nolenti e secondo questa ipotesi chi potrebbe nutrire dei desideri ma se uno dicesse io che sono sano voglio essere sano e sempre io che sono ricco voglio essere ricco e ho desiderio proprio delle cose che ho a lui risponderemmo tu benedetto uomo pur avendo ricchezza salute e forza vuoi conservarle anche per il futuro perché nel momento presente che tu voglia o no le hai osserva dunque quando dici questo desidero i beni che posseggo ora che tu altro non dica se non questo le cose che ho presentemente desidero averle anche per il tempo a venire dovrebbe dunque ammettere qualche altra cosa e aristodemo disse che agatone fu d'accordo socrate allora continuò e non è questo amare quello che non è ancora pronto e non sia nel senso che siano mantenute per il tempo a venire le cose che si hanno anche al presente certamente rispose e costui dunque e ogni altro che ha desiderio di ciò che non ha a portata di mano non gli è presente e non possiede e di cui è mancante sono dunque queste le cose un pressapoco di cui si nutrono il desiderio e l'amore senza dubbio rispose ebbene aggiunse socrate riprendiamo i punti sui quali abbiamo concordato cos'altro è amore se non in primo luogo amore di alcune cose poi amore di quelle cose di cui lo stesso avverte la mancanza certo rispose dopo questo cerca di ricordare di quali cose nel tuo discorso dicevi che consisteva amore se vuoi te lo ricorderò io io penso che tu all'incirca hai sostenuto così che le faccende fra gli dèi furono appianate per amore del bello perché non c'è amore per le cose brutte un pressapoco non dicevi questo lo dicevo infatti rispose agatone tu rispondi proprio a tono amico mio riprese socrate e se la cosa sta così cos'altro è amore se non amore di bellezza ma di bruttezza no fu d'accordo ma non si è concordato che amore è ciò di cui si è privi e che non si possiede sì rispose e dunque amore non ha ed è privo di bellezza per forza rispose cosa quel che è privo di bellezza e non la possiede in alcun modo tu sostieni che è bello no certo e sei d'accordo ancora che amore è bello se la cosa sta così e agatone rispose rischio proprio socrate di non sapere nulla delle cose che ho detto prima eppure hai parlato molto bene aggiunse socrate o agatone ma dimmi ancora una piccola cosa non ti pare che quel che è buono sia anche bello a me sì se amore dunque è privo del bello ed il buono è pure bello egli dunque è privo del buono io soggiunse agatone non potrei proprio contraddirti o socrate ma sia pure così come dici tu è la verità lo interruppe che non puoi contraddire o amato agatone perché contraddire socrate non è difficile e ormai ti lascio andare esporrò invece il discorso che ascoltai un tempo su amore a una donna di mantinea di otima che era sapiente in questo e in molte altre cose e agli atteniesi che una volta celebravano dei sacrifici prima della pestilenza ragionò un ritardo di dieci anni del malanno e a me fu maestra nelle faccende d'amore il discorso dunque che disse a me prendendo io lo spunto da quanto ci è concordato tra me e agatone proverò ad esporvero da parte mia a secondo delle mie possibilità occorre dunque agatone esporre nel modo al quale ti sei tenuto anche tu chi è amore e qual è per poi dire le sue opere mi pare comunque che per me sia il quanto facile a tenermi al modo che un tempo seguiva la straniera interrogandomi perché anche io un pressapoco le dicevo le cose quali ora agatone sosteneva con me che amore è un grandio che è amore del bello ed ella mi contraddiceva con i ragionamenti con cui ho confutato lui che non è bello secondo il mio discorso e non è neanche buono e io le dicevo come dici idiotima amore è brutto ed è anche cattivo ed essa e non vorrai parlare da costumato o pensi forse che quel che non è bello debba per forza essere anche brutto certo dicevo e quel che non è sapiente deve essere ignorante non capisci dunque che tra sapienza e ignoranza c'è in mezzo qualche cosa e cos'è questo e non sai che avere retta opinione anche senza avere il mezzo di darne ragione non è né sapere e cosa è logica infatti come potrebbe essere scienza e neppure ignorare perché quello che anche a caso raggiunge il vero come potrebbe essere ignoranza un qualche cosa di mezzo tra discernimento e ignoranza tu dici il vero le dicevo io non forzare dunque quel che non è bello essere brutto e quel che non è buono essere cattivo così anche amore siccome tu stesso ammetti che non è buono né bello non pensare affatto che debba essere brutto e cattivo ma un qualcosa di mezzo a queste cose diceva eppure intervenio si riconosce da parte di tutti che è un grandio tu dici tutti quelli che non sanno mi chiedeva o anche quelli che sanno dico tutti indistintamente ed essa ridendomi chiedeva ma come socrate ha riconosciuto come un grande dio da quelli che sostengono che non è neppure un dio e chi sono questi rispondevo io uno ribatteva sei tu l'altro io e io ribattevo ma come mai dici questo ed ella di rimando è facile rispose dimmi non sostieni tu che tutti gli dei sono felici e belli e oseresti dire che uno tra gli dei non è né bello né felice per zeus io no rispondevo e non chiami felici tu quelli che hanno bontà e bellezza ma certo ma hai ammesso che amore per mancanza della bontà e della bellezza desidera proprio queste cose di cui è privo l'ho ammesso infatti e come potrebbe essere un dio che è privo della bellezza e della bontà e nessun modo per quel che pare vedi dunque incalzava che anche tu pensi che amore non sia un dio e cosa sarebbe allora rispondevo un mortale niente affatto ma cosa allora come si diceva prima rispondeva un qualcosa di mezzo tra mortale e immortale cosa dunque di otima un gran demone socrate infatti tutto ciò che a parte del demone sta in mezzo al divino e al mortale e qual è il suo potere io le chiedevo di far capire agli dei e di trasmettere loro quel che viene dagli uomini e agli uomini quel che viene dagli dèi di quelli invocazioni e sacrifici di questi i comandi e i compensi per i sacrifici in mezzo tra questi e quelli colma l'esistente di modo che il tutto è strettamente collegato con se stesso suo tramite avanza la mantica tutta e la dottrina dei sacerdoti riguardo ai sacrifici le celebrazioni dei misteri gli incantesmi ogni sorta di divinazione di magia il dio non ha relazione con l'uomo ma attraverso l'amore avviene ogni contatto e dialogo tra gli dèi e gli uomini o quando vegliano o quando dormono chi è sapiente in tutte queste cose è un uomo che a parte del divino chi lo è in qualche altra cosa nelle arti o nei mestieri manuali è solo un artigiano questi demoni sono parecchi ed ogni specie uno di essi è anche amore e suo padre e sua madre chi sono chiesi io è piuttosto lungo da esporre rispose ma te lo dirò quando venne al mondo a frudite gli dèi si radunarono a banchetto e fra gli altri vi era anche poro figlio di metide dopo che ebbero banchettato siccome c'era stato un grande pranzo venne penia a mendicare e se ne stava sulla porta poro ebbero di nettere il vino non c'era ancora se ne andò nel giardino di zeus e appesantito dal cibo si addormentò penia dunque tramando per la sua indigenza di concepire un figlio da poro si stese accanto a lui e rimase incinta di amore anche per questo è seguace il servitore di afrodite essendo stato concepito nel genetriaco di essa e poiché per natura è amante del bello e afrodite è bella amore dunque perché è figlio di poro e di penia è stato posto in tale sorte per prima cosa è sempre povero e manca molto che sia delicato e bello quale molti lo reputano è duro sudicio scalzo senza casa sempre nudo per terra e dorme sotto il cielo presso le porte o per le strade e poiché alla natura della madre si trova a convivere sempre con l'indigenza secondo l'indole del padre invece sempre insidia chi è bello e chi è buono è coraggioso protervo caparbio cacciatore terribile sempre dietro a macchinare qualche insidia desideroso di capire scaltro inteso a speculare tutta la vita imbroglione terribile maliardo e sofista per natura non è immortale né mortale e talora nello stesso giorno fiorisce e vive quando prospera ma talvolta muore e risuscita ancora proprio per la natura del padre e quel che accumula sempre si dilegua tanto che amore non si trova mai né in povertà né in ricchezza e si trova sempre in mezzo a sapienza e ignoranza la cosa infatti sta così nessuno degli dei fa filosofia né desidera essere sapiente lo è già né se vi è qualcun altro sapiente fa filosofia né d'altra parte gli ignoranti fanno filosofia né desiderano diventare sapienti poiché proprio in questo sta l'aspetto più ostico per l'ignoranza il fatto che chi non è né buono né bello né assennato alla convinzione che tutto gli basti pertanto chi non pensa di trovarsi nell'indigenza non può desiderare quello di cui non pensa di aver bisogno e chi sono dunque chiesi io odiotima quelli che si mettono a fare filosofia se non lo fanno i sapienti né gli ignoranti questo mi rispose è chiaro ormai anche a un bambino e sono quelli che si trovano in mezzo a questi due gruppi tra i quali va posto anche amore la sapienza infatti appartiene al novro delle cose più belle e amore è amore riguardo al bello tanto che è necessario che amore sia filosofo ed essendo anche filosofo se ne sta in mezzo al sapiente e all'ignorante anche di tutto questo per lui e causa la sua nascita perché il padre è sapiente e ricco di risorse la madre invece non è sapiente e si trova sempre in ristrettezze e la natura di questo demone o caro socrate è questa e per quel che tu credevi fosse amore non provavi cosa da suscitare meraviglia tu credevi infatti come a me pare e l'arguisco da quello che tu dici che amore fosse l'amato e non l'amante per questo io penso amore ti appariva bellissimo e in effetti ciò che è amato è in realtà bello delicato compiuto e felice l'amante invece ha un altro aspetto ed è quello che io ti ho tratteggiato ed io risposi sia pure così ospite tu parli molto bene ma se amore è fatto in questo modo quale utile offre agli uomini è proprio quello che tenterò di chiarirti fra un po' egli è ed è nato così ed è come dici amore delle cose belle ma se uno ci chiedesse e perché socrate idiotima amore è amore del bello più chiaramente chi ama il bello ama cosa ama e io risposi averla ma la risposta esige ancora questa domanda e che accadrà a colui che giunga ad avere il bello a questa domanda io risposi di non avere nulla per rispondere prontamente ma incalzò nel caso che uno facendo uno scambio si avvalesse del buono al posto del bello e ti chiedesse chi ama il bene ama ma cosa ama averlo egli pure risposi io e cosa accadrà a colui cui tocchi di avere il bene a questo proposito posso rispondere più facilmente dissi perché sarà felice con il raggiungimento del bene continuò i felici infatti sono felici e non c'è bisogno di domandare ancora perché vuole essere felice chi lo vuole ma la risposta sembra raggiungere il suo termine dice la verità risposi io e questo desiderio e questo amore pensi tu che sia comune a tutti gli uomini e che tutti vogliono avere per sé il bene sempre e come dici così le risposi io che sia comune a tutti per quel motivo allora socrate non diciamo che tutti amano seppure tutti amano e sempre le stesse cose ma sosteniamo invece che alcuni amano e altri no me ne meraviglio anch'io le risposi non fartene meraviglia aggiunse perché sottraendo una qualche parte dell'amore le affibbiamo poi il nome dell'intero cioè d'amore e per le altre invece ci serviamo di altri nomi e come e in che modo incalzai io per esempio così poesia come sai è un qualcosa di complesso infatti la causa per cui un qualcosa va dal non essere all'essere è sempre poesia creazione tanto che anche le realizzazioni che provengono da tutte le arti sono esse stesse poesia creazione e i loro artefici sono tutti poeti creatori dici il vero tuttavia aggiunse tu sai che non vengono chiamati poeti ma hanno altri nomi e che soltanto una parte ben circoscritta che deriva dalla poesia circoscritta quella che riguarda la musica e i versi viene chiamata con il nome dell'intero soltanto questa viene chiamata poesia e solo quelli che si occupano di questa parte della poesia vengono chiamati poeti dici il vero risposi così avviene anche riguardo amore in sostanza ogni desiderio di bene e di felicità è per tutti il potentissimo e ordine di tramelli amore ma mentre coloro che si incamminano per un altro percorso e sono parecchio al suo seguito o verso la ricchezza l'attività fisica la filosofia non si dice che amino e non sono chiamati amanti quelli che si volgono e si affannano a un solo aspetto di esso conseguono il nome dell'intero amore amare amanti è ben probabile che tu dica il vero risposi io e corre anche una certa voce secondo cui coloro che cercano la propria metà sono quelli che amano il mio ragionamento invece non sostiene che amore non è della metà né dell'intero se questo in qualche modo o amico non viene ad essere un bene poiché gli uomini sono pronti anche a farsi tagliare i piedi e le mani se sembra loro che queste loro cose siano cattive e infatti essi a uno a uno a perer mio non aspirano a questo loro a meno che qualcuno non chiami il bene proprio e di sé e il male non chiami altrui non ve nient'altro infatti che gli uomini amino se non il bene oppure cosa te ne pare diversamente a me no per zeus risposi io e dunque continuò essa possiamo dire semplicemente che gli uomini amano il bene certo risposi ebbene non si deve porre anche che essi amano di averlo e si deve porre sì e dunque incalzò non solo averlo ma averlo per sempre si deve presupporre anche questo in definitiva aggiunse l'amore è amore di avere il bene sempre per sé tu dici ragioni assai vere dissi io siccome l'amore è sempre questo continuò essa in quale modo e in quale azione lo slancio e la tensione di quelli che cercano di raggiungerlo può chiamarsi amore quale mai può essere quest'opera hai modo di dirmelo veramente di ottima risposi non potrei ammirarti per la tua sapienza e non verrei ad ascoltare proprio da te queste cose se io le conoscessi te lo dirò aggiunse lei questo è come avere un parto nel bello e secondo il corpo che secondo l'anima ci vuole la capacità di un indovino per comprendere cosa mai vuoi dire perché io non lo capisco te lo dirò io continuò essa in maniera più chiara tutti gli uomini socrate divengono gravidi nel corpo e nell'anima e quando raggiungono una certa età la nostra natura ha desiderio di partorire ma partorire nel brutto non è possibile nel bello sì infatti l'unione di uomo e donna è partorire e questa è proprio la cosa divina ed è anche cosa immortale in quel che vive ed è pur destinato a morire la gravidanza e la nascita le cose che si trovano su un piano privo di proporzione non è possibile che si generino il bello invece è armonico moira dunque edilizia sono la bellezza per la generazione perciò quando il gravido si tiene vicino al bello è sereno pieno di letizia si rallegra partorisce e genera quando invece si trova vicino al brutto diventa tenebroso triste si restringe in se stesso si rivolge all'indietro e non genera ma trattenendo la gravidanza la sopporta fatica di qui deriva in chi è in stato di gravidanza ed è pregno quell'incontenibile ardore per il bello perché solleva dalle grandi doglie chi lo possiede l'amore dunque socrate non è per il bello come tu pensi disse e ma per cosa dunque per la generazione e per il parto nel bello sia pure così risposi io certo continuò perché dunque per la generazione perché la generazione per il mortale è ciò che è sempre eterno ed immortale da quello che si è ammesso è necessario che immortalità consista nel desiderare insieme al bello se amore è desiderare di avere sempre presso di sé il bene da questo ragionamento segue di necessità che l'amore sia anche amore dell'immortalità mi insegnava dunque tutte queste cose sulle questioni d'amore quando ne parlava e una volta mi chiese quale pensi che sia socrate il movente di questo amore di questo desiderio non ti accorgi in quale terribile condizione si trovano tutte le bestie quando bramano generare sia quelle terrestri che le stirpi alate e tutte soffrono succubi alle passioni d'amore prima per congiungersi tra di loro poi per il nutrimento della prole e per essa sono pronte a combattersi e più deboli contro le più forti e anche a morire e sono pronte anche alla fame pur di nutrirla e a compiere qualunque altra cosa degli uomini si può pensare che facciano tutto questo per un ragionamento ma per le bestie qual è la ragione di un tal disporsi alla passione d'amore puoi dirla e ancora una volta risposi che io non la conoscevo ed essa continuò come puoi dunque pensare di divenire mai molto esperto nelle cose d'amore se non capisci questo ma proprio per questo di ottima come ti dicevo anche poco fa vengo da te ben sapendo che ho bisogno di maestri dimmela tu la causa di questa e di tutte le altre faccende d'amore dunque se tu dunque sei convinto che amore per natura è invaghito di quello sul quale più volte abbiamo concordato non fartene meraviglia qui infatti secondo lo stesso ragionamento di poco fa la natura cerca di esistere sempre e di essere immortale le è possibile soltanto con questa risorsa la generazione poiché continuamente al posto di un vecchio lascia uno giovane cosa poi che avviene per il tempo in cui si dice che ciascuno degli esseri viventi vive ed è lo stesso quale un uomo si dice che è sempre lo stesso da fanciullo finché diventa vecchio egli tuttavia non mantiene sempre le stesse cose in se stesso anche se viene chiamato sempre allo stesso modo ma per rinnovarsi in continuità perde sempre qualcosa nei capelli nella carne nelle ossa nel sangue e in tutto il corpo e non solo nel corpo ma anche nella mentalità i modi costumi le opinioni desideri i piaceri dolori le paure ognuna di queste cose mai restano identiche per ciascun individuo ma in parte insorgono nuovamente in parte deperiscono ma la cosa più strana tra queste è che anche le conoscenze alcune vengono alla luce altre invece svaniscono e neppure noi restiamo sempre gli stessi neanche rispetto alle conoscenze ma anche ciascuna di esse subisce lo stesso processo e quello che viene chiamato applicarsi avviene perché la conoscenza si dilegua dimenticanza infatti è il dileguarsi della conoscenza ma l'applicazione determinando una memoria nuova al posto di quella che se n'è andata conserva la conoscenza tanto che pare essere sempre la stessa a questa stessa stregua si salva anche tutto ciò che è mortale ma non perché si mantenga completamente identico come ciò che è divino ma per il fatto che lascia invece di quel che si dilegua e che è vecchio un'altra entità nuova tale e quale era l'altra con questa risorsa o socrate continuò quel che è mortale partecipa dell'immortalità per quel che riguarda il corpo e gli altri aspetti quel che è immortale invece per altro percorso non meravigliarti dunque se ogni cosa per natura considera a tal punto il proprio germoglio perché in ciascuna infatti una tale cura ed amore fanno seguito alla causa dell'immortalità udendo questo discorso mi meravigliai parecchio e dissi sia pure sapientissima di otima ma le cose stanno realmente così e lei come i sofisti provetti sappilo per certo socrate perché se tu vuoi considerare il desiderio d'onore degli uomini ti potresti sorprendere della loro illogicità se non mediti sulle cose che io ti ho detto pensando come sono terribilmente presi dall'amore di divenire famosi e di procacciarsi gloria immortale per il tempo a venire e come in virtù di questo sono pronti a correre tutti i pericoli ancor più che per i figli e buttare via ricchezze e durare qualunque fatica e addirittura morire perché pensi forse che alcesti sarebbe morta per admeto o achille avrebbe seguito nella morte patroclo o il vostro codro avrebbe affrontato la morte per il regno dei figli se non ritenevano che sarebbe rimasta memoria immortale della loro virtù che noi conserviamo ancora ce ne manca molto continuava ma penso che tutti fanno tutto per la vita immortale e per questo amore di gloria tanto quanto più sono migliori perché essi hanno amore per l'immortalità e quelli dunque che sono fertili nel corpo continuava sono attratti piuttosto verso le donne e in questo sono dediti all'amore mirando a procurarsi attraverso la prole come essi sono ben convinti immortalità memoria e felicità per tutto il tempo a venire quelli invece che sono fertili nell'anima perché vi sono di quelli che restano gravidi nell'anima più che nel corpo di quelle cose che all'anima si addice concepire e partorire e cosa si addice poi la saggezza e ogni altra virtù e tra essi si trovano i poeti che creano gli artefici quanti vengono denominati inventori ma l'aspetto più grande e più bello dell'assenatezza diceva è quello che riguarda l'assetto della città e delle case che a nome di saggezza e di giustizia di queste quando uno diviene gravido nell'anima fin da giovane mentre è giovane e quando sopraggiunge l'età desidera generare e partorire cerca a mio parere anche costui e va in giro per il bello in cui generare perché nel brutto non genererà mai e siccome è pregno aspira ai corpi belli più che ai brutti e se si imbatte in un'anima bella nobile di buona natura esulta per quell'unione e subito per quest'uomo trova agevolmente discorsi sulla virtù e su come deve essere l'uomo buono e le cose cui deve attendere e intraprende ad educarlo e penso tenendosi unito al bello e stando in sua compagnia genera e partorisce quello di cui da tempo era gravido e la sempre presente da vicino e da lontano e nutre insieme ad esso il proprio parto tanto che esseri simili hanno tra loro una comunanza più grande di quella che si ha con i figli e amicizia più sicura perché essi hanno parte insieme di una figliolanza più bella e più mortale e ognuno accetterebbe di avere figli come questi rispetto a quelli umani guardando omero e desiodo e gli altri grandi poeti e provando emulazione per la prole che hanno lasciato e che procura loro gloria e memoria immortale già che immortale è essa stessa o se vuoi continuava figli quali licurgo lasciò in sparta salvatori della città e in una parola della grecia allo stesso modo presso di voi è onorato solone per la creazione delle leggi e altri uomini altrove in parecchi luoghi tra i greci e tra i barbari che hanno condotto a termine molte e belle imprese creando ogni genere di virtù e di esse molte opere vennero considerate sacre per tali figlioli ma di nessuno invece per la discendenza naturale in queste vicende d'amore forse anche tu socrate potresti essere iniziato ma ai misteri più alti e perfetti in virtù dei quali esistono anche queste non so se tu ne fossi in grado a condizione che si vada avanti con correttezza te ne parlerò dunque disse e nulla tralascerò dell'impegno e tu cerca di tenermi dietro per quanto sta in te chi intenda muoversi a questa volta deve infatti cominciare finché è giovane ad andare verso i corpi belli e in primo luogo se guida bene colui che lo guida amare un solo corpo e qui far venire alla luce bei discorsi poi deve arrivare a capire che la bellezza che si trova in un corpo qualunque è identica a quella che si trova in un altro e che se deve seguire il bello che è in ogni aspetto sarebbe grande stoltezza non comprendere che è una sola e la stessa è la bellezza che si trova in tutti i corpi quando abbia ben capito questo deve divenire amante di tutti i corpi belli e attenuare lo slancio eccessivo verso uno solo quasi disprezzandolo e giudicandolo poca cosa dopo di questo deve ritenere che la bellezza insita nelle anime è da tenere in maggior conto di quella che è nei corpi tanto che se uno nell'anima è ben appropriato anche sia poco fiore e sia contenuto e lo curi e lo ami e concepisca discorsi adeguati e cerchi proprio quelli che sono in grado di rendere migliori i giovani perché si è trascinato a considerare di nuovo il bello che è nei modi di comportarsi della vita e nelle lezzi e a osservare questo che tutto ciò è a lui congeniale perché possa capire che tutto il bello che riguarda il corpo è cosa ben da poco dopo i modi di comportarsi nella vita occorre condurlo alle conoscenze perché ne intenda la bellezza e considerando ormai ogni aspetto del bello e non più quello che si trova presso uno solo come un servo amando la bellezza di un ragazzetto o di un uomo o di una sola condotta di vita venendo così a servire scioccamente e con gretezza d'animo ma come volgendosi all'immenso mare del bello e prendendone ammirazione crei molti belli e stupendi discorsi e meditazioni in un'aspirazione a una saggezza che non provochi invidia finché colmo di forza e cresciuto giunga a vedere un tipo unico di conoscenza di tal fatta che è quella del bello nel modo che segue cerca dunque continuava di volgere qua la mente per quanto ti è possibile chi dunque venga guidato fino a questo livello nelle vicende d'amore vedendo l'un dopo l'altro e direttamente gli aspetti del bello andando ormai al termine delle conoscenze d'amore all'improvviso scorgerà una bellezza stupenda per la quale quella appunto socrate a causa della quale avvennero tutte le fatiche di prima innanzitutto bellezza che sempre esiste che non nasce e non muore che non cresce e non declina poi che non è bella in parte o in parte brutta né ora sì ora no né bella da un lato e brutta dall'altro né bella qua brutta là come se fosse bella per alcuni e per altri brutta né a lui si potrà rappresentare questa bellezza come un volto mani o alcun altro membro del corpo né un discorso né una conoscenza né come un qualcosa che sia in un altro differente da lei quale in un essere vivente in terra un cielo o in qualche altro luogo ma come essa in sé e per sé con sé essendo sempre in un solo aspetto mentre tutte le altre bellezze hanno parte di lei in modo tale ad esempio che mentre le altre sorgono e si seguono e nulla essa diviene né più grande né più piccola e nulla subisce sì che quando una di queste nostre vicende salendo attraverso il giusto amore per i giovanetti comincia a scorgere questa bellezza comincia ormai a toccare il proprio fine questo è il giusto procedere sulle cose d'amore o esservi guidati da un altro cominciando dalle bellezze che si trovano qua in nome della bellezza in sé salire come se ci si servisse di gradini da uno a due e da due a tutti i corpi belli e dai corpi belli ai bei modi di comportamento e dai modi di comportamento ai begli apprendimenti e dagli apprendimenti giungere a quell'apprendimento estremo che altro non è se non l'apprendimento di quella bellezza e concludere conoscendo cos'è quella bellezza in sé questo è il punto della vita caro socrate diceva l'ospite di mantinea se mai venè qualcun altro che deve essere vissuto dall'uomo proprio quando egli contempla la bellezza in sé e se mai riuscirai a vederla non come ora bei fanciulli e giovinetti ti sembrerà che essa sia vedendo ai quali ora sei colpito e sei pronto tu e parecchi altri pur di vedere questi vostri desideri e di stare sempre con essi se mai fosse possibile a non mangiare né a bere ma ad ammirarli soltanto e a starvene con essi e cosa pensi mai continuava chi accadrebbe a uno se vedesse la bellezza in sé genuina pura non mescolata non incorporata di carni umane né di colori o di ogni altra vacuità mortale ma potesse contemplare in sé la bellezza divina nel suo unico aspetto pensi che fosse una vita da nulla quella di un uomo che la fissasse con lo sguardo e la contemplasse con quello con cui si deve contemplare e con essa avesse convivenza senza fine o non pensi piuttosto che soltanto lì guardando la bellezza per quello in cui si lascia vedere gli avvenga di generare non immagini di virtù perché non è una parvenza che egli tocca ma la vera virtù perché è il vero che egli tocca e generando vera virtù e nutrendola potrà accadergli di essere caro agli dèi e se mai ad altro uomo potrà toccare a lui di essere immortale queste cose fedro e tutti voi a me diceva di ottima e io ne fui convinto così convinto che tento di persuadere anche gli altri che per raggiungere un così grande acquisto non si potrebbe trovare facilmente per la natura umana un collaboratore migliore di amore perciò sostengo che ogni uomo deve onorare amore ed io stesso mi impegno particolarmente al suo insegnamento ed esorto anche gli altri e anche ora e sempre elevo un elogio alla potenza e al coraggio d'amore per quanto sta in me questo discorso fedro reputa pure sia stato detto come un elogio di amore se no come a te è chiaro chiamarlo chiamalo pure appena socrate ebbe detto queste cose mentre gli altri loro davano aristofano tentava di dire qualcosa perché socrate aveva menzionato lui e il suo discorso ma all'improvviso si udì bussare alla porta esterna con gran frastuono come da parte di parecchi festanti e si udì pure la voce di un auletride agatone disse ragazzi andate a vedere se a qualcuno dei nostri amici invitatelo se no dite che non beviamo ma stiamo già riposando e non molto dopo si udì la voce di alcibiade che era molto ubriaco e gridava forte domandando dove fosse agatone e chiedendo di essere condotto da lui l'auletride che lo reggeva e alcuni dei suoi compagni lo condussero presso i convitati si fermò sulla porta incoronato da una spessa corona di edera e viole portando sulla testa moltissime bende e disse vi saluto amici volete accettare come compagno di bevuta uno molto ubriaco o dobbiamo andarcene dopo aver cinto di un certo agatone il solo per il quale siamo venuti e aggiunse ieri non mi è stato possibile venire ma giungo ora portando i nastri in testa perché dalla mia testa se posso dire così voglio incoronare quella del più saggio e del più bello ridete forse perché sono ubriaco io però anche se voi ridete so bene di dire la verità ma di là ditemi dunque ai patti già dichiarati devo entrare o no berrete insieme a me o no tutti l'applaudirono con fragore e li invitarono ad entrare a sdraiarsi ed agatone lo chiamò ed egli entrò condotto dal suo seguito e togliendosi i nastri per incoronare agatone gli aveva infatti davanti agli occhi non riuscì a scorgere socrate ma andò a sedersi vicino ad agatone in mezzo tra socrate e quello socrate infatti si era fatto un po indietro perché quello lo vedesse quando fu seduto fece gran festa ad agatone e lo incoronò e agatone togliete pure i sandali ad alcibiade ragazzi che possa sdraiarsi terzo in mezzo a noi ma bene rispose alcibiade ma chi è questo terzo bevitore insieme a noi e dicendo queste parole si volse e vide socrate e scorgendolo balzò in piedi e disse per eracle cos'è dunque questo socrate qui per insidiarmi dunque ti eri sdraiato qui abituato come sai a saltarmi davanti agli occhi all'improvviso dove io non avrei minimamente pensato di poter incontrarti e ora perché sei venuto e perché sei sdraiato proprio qui e perché non ti sei messo vicino ad aristofane o se c'è qualcun altro a essere o a voler fare il simpatico ma ti sei dato da fare per sdraiarti vicino al più bello tra quelli che sono in casa e socrate agatone vedi se puoi darmi una mano perché per me l'amore di quest'uomo è diventata una faccenda non leggera infatti dal momento in cui mi sono invaguito di lui non è più possibile per me né guardare né intavolare un discorso con uno bello neppure con uno neppure con uno che questo qui per invidia e gelosia mi combina dei guai che lasciano di stucco e offende e si trattiene a fatica ad adoperare le mani vada dunque che non debba farne una anche ora ma vedi di riconciliarci e se tenta di farmi violenza difendimi perché io ho piuttosto paura della sua concitazione e del suo impeto amatorio ma non è possibile continuò alcibiade che tra me e te ci sia ria pacificazione e per questo prenderò la mia vendetta su di te in altra occasione ora agatone dimmi dei nastri che io possa incoronare anche questa stupenda testa di colui e non mi sia fatto l'improvero che ho incoronato te e lui invece che nei discorsi supera tutti gli uomini e non solo ieri l'altro come hai fatto tu ma sempre ebbene io non l'ho incoronato e così egli prendendo dei nastri cinse socrate e si mise a sdraiato non appena si fu sdraiato continuò su dunque uomini mi pare teniate la bocca troppo asciutta e non si deve concedervelo bisogna bere è questo che abbiamo concordato tra di noi arbitro della bevuta fino a che voi non abbiate bevuto abbastanza sceglierò me si porti pure se c'è agatone una gran tazza o meglio non è necessario portami ragazzo quel vaso da rinfrescare il vino e intanto ne guardava uno che conteneva più di otto cotile come l'ebbe riempito per primo beve lui poi diede ordine che si versasse anche a socrate e disse con socrate amici il trucco non mi rende beve quanto uno gli ordina di bere e pur bevendo tanto per nulla di più si trova che si sia mai ubriacato il ragazzo dunque versò da bere a socrate ed erissimaco intervenne ebbene come facciamo alcibiade dobbiamo bere così senza dire nulla sul calice senza cantare ma buttar giù senza regola come quelli che muoiono di sete e alcibiade di rimando oh erissimaco ottimo rampollo di ottimo e giudiziosissimo padre ti saluto ti saluto anch'io ribatte erissimaco ma cosa facciamo quello che disponi tu bisogna dare ascolto a te un medico anche solo equivale a molti altri ordine pure quel che vuoi ascolta disse erissimaco prima che tu arrivassi avevamo deciso che ciascuno facendo il giro da destra pronunciasse il discorso più bello che poteva suo amore e ne tessesse l'elogio noi tutti abbiamo parlato siccome tu non hai parlato ma hai bevuto è giusto che parli e quando avrai concluso di pure a socrate quello che vuoi e lui e lui farà avere l'invito a destra e così gli altri certo parli bene rispose alcibiade ma che un ubriaco debba mettere a confronto i suoi discorsi con chi è sobrio non è certo alla pari comunque o te beato ti convince in nulla socrate nelle cose che ha detto poco fa o sai che è tutto il contrario di quello che dice e infatti se lo do qualcuno in sua presenza o dio o uomo che non sia lui non tratterrà da me le sue mani e non vorrai parlare un po sul serio intervenne socrate per poseidone sbottò alcibiade non dire nulla di questo perché io in tua presenza non potrai lodare nessuno e fa così disse erissimaco se vuoi loda pure socrate come dici rispose alcibiade pensi che occorra erissimaco devo aggredirlo e vendicarmi di fronte a voi ehi tu disse socrate cosa ti passa per la testa vuoi lodarmi per espormi ancor più al ridicolo o cosa vorrai fare dirò la verità vedi però se lo consenti lo consento sì di dire la verità anzi ti raccomando di dirla non potrei farlo più alla svelta disse alcibiade ma tu fa così se dico quello che non sia vero interrompimi pure in mezzo al discorso se vuoi e di quello su cui io mento perché spontaneamente non dirò falsità ma se tentando di ricordare dirò or questo or quello non fartene meraviglia infatti non è facile per chi si trova in questa condizione esporre adeguatamente e con ordine la tua stravaganza socrate o amici io penso di lo darlo così per immagini egli riterrà probabilmente per far ridere di più ma l'immagine sarà fin di vero e non di scherzo infatti dico che è molto simile a quei sileni che si trovano nei laboratori degli scultori che gli artefici creano con flauti o zampogna in mano ma se vengono aperti in due mostrano all'interno l'immagine degli dei e dico ancora che assomiglia al satiro marcia del resto che almeno nell'aspetto socrate sia somigliante a questi due non potresti metterlo in dubbio neppure tu e dopo questo ascolta come gli somigli anche nel resto tu sei insolente o no se non lo confessi ti porterò qui i testimoni non sai flautista ma sei molto più meraviglioso di quello egli con i suoi strumenti ammagliava gli uomini per mezzo della potenza che gli proveniva dalla bocca e ancora adesso chi suona le sue composizioni quelle che suonava olimpo erano proprio di marcia perché gliele aveva consegnate lui quelle composizioni sia che le esegua un buon flautista sia un ouletride da poco esse sole riescono a dominare e rivelano quelli che hanno bisogno degli dei e delle iniziazioni per il loro essere divine solo in questo tu sei diverso da lui perché senza strumenti con semplici parole raggiungi lo stesso risultato noi del resto quando sentiamo parlare un altro anche se è un buon parlatore che fa altri discorsi non riesce a prendere per così dire in niente nessuno di noi ma quando qualcuno ascolta te o un altro ripete i tuoi discorsi anche se è da poco chi parla anche se è una donna che ascolta o un uomo o un ragazzotto siamo veramente colpiti e ci lasciamo dominare io dunque o amici se non dovessi sembrarvi completamente ubriaco vi direi sotto giuramento quello che io stesso ho provato da parte dei suoi discorsi e che provo tuttora quando l'ascolto il mio cuore si agita più che ai coribanti e le lacrime mi si versano sotto l'influsso delle sue parole ma osservo pure che a moltissimi altri avviene la stessa cosa utendo pericle e molti altri oratori capaci pensavo che parlassero bene ma non provavo nulla di tutto questo l'anima non si sconvolgeva entro di me non si ribellava il pensiero di trovarmi in schiavitù ma da parte di questo marsia qui molte volte mi sono trovato nella condizione che non mi sembrava possibile la vita in questo stato e non dirai socrate che questo non è vero e so ancora dentro di me che se volessi dargli ascolto non riuscirei a stare saldo ma proverei le stesse sensazioni infatti mi costringe ad ammettere che io pur mancando di molto tuttavia ancora non mi prendo cura di me stesso ma mi occupo delle faccende politiche atteniesi controvoglia dunque come dalle sirene turandomi le orecchie me ne fuggo per non invecchiare qui giacendo presso di lui e solo di fronte a lui tra gli uomini ho provato quello che nessuno mai si aspetterebbe di trovare in me provare vergogna di una qualunque persona mi vergogno di fronte a lui solo so bene tra me e me di non poterlo contraddire come non si dovesse fare quello che lui comanda ma quando me ne allontano sono trascinato via dalle onorificenze che mi vengono dalla moltitudine me ne fuggo dunque da lui e lo e quando lo vedo mi vergogno per quello che mi aveva fatto ammettere e assai spesso vedrai volentieri che egli non sia più tra gli uomini ma se questo avvenisse so bene che ne soffrirai e molto tanto che io con quest'uomo non so proprio come comportarmi dalle modulazioni del flauto di questo satiro io e molti altri proviamo queste sensazioni ma ascoltatemi ancora per capire quanto è simile a quelli con cui l'ho confrontato e che straordinaria potenza egli abbia dovete ben sapere che quest'uomo non lo conoscete ve lo mostrerò io dato che ho cominciato voi notate che socrate è disposto con amorevolezza nei confronti dei belli e fa la ronda attorno a loro e se ne lascia ammaliare e questo l'ignora e quello non sa e questo suo schizzo non è proprio di un sileno e come all'esterno resta avviluppato in questo involucro come il sileno scolpito ma all'interno se viene aperto pensate voi amici e compagni di bevuta di quanta saggezza è pieno sappiate che a lui non importa nulla se uno è bello e ne fa così poco conto quanto nessun altro né gli interessa se è ricco o ha un altro titolo di quello che per la gente portano alla felicità ritiene di ben poco conto tutti questi beni e che noi vi assicuro non siamo nulla e passa la sua vita ostentando candore e scherzando ma quando poi si impegna seriamente e si apre non so se uno ha mai visto le splendide qualità che ha all'interno io le ho già osservate da tempo e mi apparvero così divine dorate belle meravigliose da provare che si doveva fare subito quel che socrate comandava pensando che avesse interesse per la mia età fiorente ritenni come un dono di ermes e una stupenda sorte la mia se assecondando socrate mi fosse dato ascoltare tutto quello che lui sapeva perché del fiore della mia età menavo vanto in modo straordinario e questo avevo pensato e non essendo solito prima senza accompagnatore trovarmi solo con lui allora dispensando il servo dall'accompagnarmi mi facevo trovare solo da a voi devo dire tutta la verità prestate attenzione e se mentisco socrate sbugiardami pure mi trovavo amici da solo a solo e pensavo che avrebbe subito cominciato a dirmi le cose che un amante dice all'innamorato quando sono soli e ne ero felice ma non avvenne nulla di tutto questo al suo solito conversava con me e passava insieme tutta la giornata poi se ne andava mi propose allora di fare ginnastica con me e facevo gli esercizi nella convinzione che così avrei concluso qualcosa faceva dunque ginnastica con me e spesso anche la lotta nessuno era presente ma che dire non ricavavo nulla di più siccome per questa strada non riuscivo a nulla decisi di impormi a quest'uomo con la maniera forte e non lasciarlo andare da che vi avevo posto mano per conoscere una buona volta la questione lo evitai a cena proprio come un innamorato che prepara tranelli al suo amato e neppure in questo mi diede ascolto subito ma poi col tempo si lasciò convincere quando venne la prima volta dopo aver cenato voleva andarsene ed io allora provando soggezione lo lasciai andare ma attirandolo ancora nel tranello dopo la cena prolungai il mio dire molto avanti nella notte e quando voleva andarsene con la scusa che era tardi lo costrinse a rimanere riposava nel letto vicino al mio nel quale aveva cenato e in quella camera non dormiva nessun altro tranne noi fino a qui la mia esposizione può andare bene e può essere fatta di fronte a tutti ma d'ora in poi non mi potrete parlare se in primo luogo il proverbio il vino con i fanciulli o senza i fanciulli non fosse veritiero poi far come sparire un comportamento meraviglioso di socrate essendo qui venuto per farne l'elogio non mi sembra giusto mi tormenta ancora il dolore provocatami dalla vipera che mi ha morso e dicono che chi l'ha subito non vuole raccontare quale fu se non a quelli che l'hanno provato perché soli possono capire e compatire ciò che ebbe il coraggio di fare e dire sotto la spinta del dolore ora io morso da quello che provoca più dolore e nella parte che è la più soggetta al dolore tra quante si può essere morsi perché nel cuore e nell'anima o in qualunque modo lo si voglia chiamare ferito e morso dai discorsi della filosofia che si imprimono con maggiore violenza di una vipera quando afferrino un'anima giovane non inetta e fanno fare dire qualunque cosa e vedendo qui i vari fedro e gli agatoni e gli erissimachi gli aristodemi gli aristofani e socrate stesso e quanti altri perché parlarne ma poiché tutti avete parte del furore del rapimento bacchico proprio di un filosofo per questo mi dovete ascoltare tutti e avrete comprensione per ciò che allora fu fatto e per ciò che ora vi han detto i servi e ogni altro ottuso e rozzo si pongano pure delle porte molto grandi sulle orecchie ora amici la lucerna era stata spenta e i servi se ne erano usciti e mi parva il caso di non sottilizzare con lui ma dirgli liberamente cosa mi andava a genio scuotendolo un po gli chiesi socrate dormi niente affatto rispose sai cosa mi è venuto in mente cosa ribatte mi sembra ripresi io che tu sia stato il solo amante degno di me ma ho l'impressione che tu rifuga dal farmene parola stimo però del tutto stolto non compiacerti in questo in qualche altra cosa che a te occorra come dei miei averi e dei miei amici perché nulla io stimo più importante del fatto che io possa diventare il migliore possibile e in questo so di non poter trovare un collaboratore più capace di te perché mi vergognerei di più non compiacere un tal uomo di fronte agli uomini assennati che di compiacerlo di fronte ai molti agli stupidi ed egli come mi aveva udito con quella punta di disarmata ironia che sua particolare e gli abituale disse caro alcibiade è assai probabile che tu non sia proprio uno da poco se mai sono vere le cose che dici sul mio conto e se esiste in me una sorta di potenza grazie alla quale potresti divenire migliore una bellezza insuperabile vedresti in me e ben diversa dall'avvenenza della tua persona se vedendola ti proponi di averne parte con me e di scambiare bellezza con bellezza pensi di avvantaggiarti non poco su di me ma di fronte a un miraggio metti mano a fare tua l'autentica verità del bello e pensi davvero di poter scambiare oro con bronzo ma beato te considera meglio che non abbia sfuggirti che io non sono nulla davvero lo sguardo della meditazione comincia a vedere in profondità quando quello degli occhi inizia a spegnere il proprio ma tu sei ancora lontano da questo lo ascoltai e gli risposi da parte mia i sentimenti sono questi e non ti ho detto nulla di diverso da quello che penso tu da parte tua decidi pure nel modo migliore che credi il migliore per me e per te ma rispose questo è detto proprio per bene nel tempo a venire prendendo consiglio insieme e per questa e per altre questioni faremo quello che ci sembrerà meglio nell'udir questo dato quello che avevo detto come se avessi scagliato le mie frecce pensavo di averlo ferito e balzando in piedi senza fargli aggiungere altro lo copri con il mantello era inverno e adagiandomi sotto lo sdrucito tabarro di costui e abbracciando questo demone davvero straordinario giacqui con lui tutta la notte e neppure in questo socrate dirai che affermo il falso io così mi confrontai ed egli a tal punto mi fu superiore e tenne in poco conto e derise la mia bellezza e la insolentì e dire che in questo pensavo di essere qualcosa signori giudici perché siete giudici dell'alterigia di socrate e ben sappiatelo per gli dèi e le dèe dormi con socrate e mi alzai niente più che se avessi dormito con mio padre o con mio fratello maggiore dopo questo quale credete fosse il mio stato d'animo pensando di essere stato offeso ma dovendo pur ammirare la natura la saggezza la forza di costui imbattendomi in un uomo col quale non avrei mai immaginato di potermi incontrare per la sua assennatezza e il dominio su di sé al punto che non avevo modo di prendermela con lui per non privarmi della sua compagnia e non riuscivo bene a capire come avrei potuto attirarlo verso di me comprendevo bene infatti che quanto a ricchezza era da ogni parte molto più incorruttibile che non ha iace ad essere trapassato col ferro e nella sola cosa in cui avevo creduto di poterlo catturare mi era sfuggito mi trovavo certo in difficoltà divenuto schiavo di un uomo come nessuno l'era diventato di altri e mi diedi a ronzargli intorno tutte queste cose mi erano già successe e dopo queste facevamo servizio militare insieme presso potidea ed eravamo compagni di tavola quanto a fatica innanzitutto egli era superiore non solo a me ma anche a molti altri quando rimasti isolati in qualche luogo come avviene in guerra eravamo costretti a patire la fame gli altri erano nulla a resistere rispetto a lui e quando c'era abbondanza di provviste egli solo sapeva tra il regodimento da tutto e pur non volendo bere quando si trovava costretto era superiore a tutti e ciò che più sorprende nessuno ha mai visto socrate ubriaco di questo penso vi sarà una prova tra poco quanto poi a far fronte all'inverno là gli inverni sono proprio terribili faceva cose incredibili tra le altre una volta che c'era un gelo spaventoso mentre tutti restavano al chiuso o se uno usciva si ricopriva di tanti indumenti da non credersi e con i piedi coperti avvolti in densi feltri e pelli di pecora egli in questi frangenti se ne usciva con indosso lo stesso mantelletto che era solito portare anche prima e a piedi nudi camminava più facilmente sul ghiaccio che gli altri ben allacciati nelle loro calzature i soldati lo osservavano di traverso convinti che volesse sfotterli e su questo argomento basti così ma quale fu poi quel che compì e osò l'eroe impavido laggiù durante la spedizione militare vale la pena di udirlo concentratosi a meditare qualcosa se ne stette fermo nello stesso punto fino all'alba e siccome la cosa non gli procedeva bene non la smetteva ma se ne stava immobile lì nella sua ricerca si era fatto ormai mezzogiorno e i soldati se ne erano accorti e pieni di stupore dicevano tra loro che socrate si era fermato a meditare qualcosa fino all'alba infine alcuni ioni quando fu sera dopo la cena era estate portati fuori i giacigli si mettevano a dormire al fresco e insieme lo tenevano d'occhio se stesse fermo lì anche la notte e lui ci restò finché spuntò l'aurora e sorse il sole allora se ne andò innalzando preghiere al sole e se volete conoscerlo nelle battaglie è un merito che è pur giusto riconoscergli quando avvenne lo scontro per il quale gli strateghi mi concessero i premi del valore nessuno fra i soldati mi salvò se non costui e non volle abbandonarmi benché ferito ma con me trasse in salvo anche le armi e io socrate anche in quell'occasione chiesi ripetutamente agli strateghi che i riconoscimenti li concedessero a te e anche questo non potrai muovermi a rimprovero né dire che sto mentendo ma gli strateghi guardando solo alla mia condizione erano intesi a dare a me le insegne del valore e tu ti impegnasti più di loro perché fossi io a riceverle e non tu e ancora o amici valeva la pena di vedere socrate quando l'esercito in fuga si ritirava ad elio il caso volle che mi trovassi vicino a lui io a cavallo e lui con le armi indosso essendo ormai disperso gli uomini e gli si ritirava con la chete capitando lì e vedendoli li invitai subito a farsi coraggio e gli assicuravo che non li avrai abbandonati lì potei ammirare socrate meglio che a potidea ero a cavallo e avevo meno da temere anzitutto quanto socrate era superiore alla chete a sapersi dominare mi sembrava aristofane che anche là si muovesse come qua il verso è tuo impettito e gettando sguardi di traverso osservando con calma amici e nemici rendendo chiaro a chiunque anche di lontano che se uno avesse toccato quell'uomo si sarebbe difeso con molto vigore così si ritiravano con sicurezza sia lui che il suo compagno perché chi ha simile disposizione d'animo in guerra non viene neppure toccato mentre si inseguono quelli che fuggono disordinatamente si potrebbero dire senza dubbio molte altre cose per lodare socrate e tutte da fare meraviglia ma mentre per ogni altro atteggiamento della vita tali cose si potrebbero dire anche di altri il fatto di non essere egli simili a nessuno degli uomini né degli antichi né di quelli di adesso questa è cosa degna di ogni meraviglia qual era achille lo si potrebbe arguire da brasida e da altri e quale fu pericle da nestore e da antenore e così anche su altri si può far leva su somiglianze ma come è fatto quest'uomo quanto a stranezza lui e i suoi discorsi neppure cercando si potrebbe trovare uno che gli si avvicini né tra gli uomini d'ora né tra quelli di un tempo a meno di metterlo a confronto con quelli che dico io cioè non con un uomo ma con i sileni i satiri lui e i suoi discorsi c'è poi ancora questo che all'inizio ho tralasciato anche i suoi discorsi sono molto simili ai sileni che si aprono se uno comincia a sentire i discorsi di socrate può essere che in un primo tempo gli sembrino proprio ridicoli tali sono le parole e i detti in cui sono ravvolti dall'esterno come una pelle di un satiro insolente parla di asini col basto fabbri calzolai artigiani del cuoio e con queste parole sembra dire sempre le stesse cose tanto che chi non ne ha esperienza e non riesce a comprenderlo può anche ridere ai suoi discorsi ma quando si dischiudono e uno li medita e si fa entro ad essi troverà in un primo tempo che tra i discorsi essi soli hanno una mente all'interno poiché sono divinissimi contengono in sé moltissime immagini di virtù e tendono a quanto vi è di più importante o meglio ancora a tutto quello che deve meditare che ha in animo di diventare bello e buono questo è il modo amici in cui ho inteso lodare socrate e quanto a ciò che devo rimproverargli mescolandolo con le altre cose vi ho esposto in cosa mi ha fatto torto e non lo ha fatto solo a me ma anche a Carmide figlio di Glaucone e Utidemo di Diocle e tanti tantissimi altri che trae in inganno come amante che trae in inganno come amante per poi porsi anziché amante come amato lo dico anche a te agatone perché tu non sia ingannato da costui ma te ne guardi bene conoscendo la mia esperienza e che tu non abbia a capire dice il proverbio provando direttamente come uno sprovveduto come alcibiade ebbe dette queste cose ci fu uno scoppio di risa per la sua libertà nel parlare e perché sembrava ancora innamorato di socrate e socrate intervenne non mi sembri proprio ubriaco alcibiade infatti mai con tanta finezza volgendolo in giro avresti coperto il motivo per cui hai detto tutte queste cose e poi come un'aggiunta finale l'hai posto tu stesso che non hai fatto tutto questo discorso per disunire me e agatone pensando che io debba amare solo te nessun altro e agatone debba essere amato da te e da nessun altro ma non l'hai ben nascosto il tuo fine e questo tuo dramma satirico e silenico ormai si è fatto chiaro caro agatone a lui non deve andare nessun guadagno e sta bene attento che tra me e te nessuno metta male e agatone intervenne davvero socrate è ben probabile che tu dica il vero ne ho la prova anche dal fatto che egli si è sdraiato tra me e te per poter prenderci separatamente ma non ne avrà alcun pro perché io verrò e mi sdraierò vicino a te bene rispose socrate mettiti pure qua presso di me per zeus sbottò alcibiade cosa mi tocca di soffrire ancora da parte di quest'uomo pensa di dover superarmi in tutto ma se non altro consente almeno chi agatone giaccia in mezzo a noi non è possibile rispose socrate tu mi hai lodato occorre dunque che io a mia volta lodi quello che sta a destra se egli si straierà presso di te non è possibile che egli torni a lodarmi senza che piuttosto lui sia stato lodato da me lascia dunque fare divino e non sottrarre a questo giovane di essere lodato da me e poi ho proprio una gran voglia di tesserne l'elogio ah sì sì disse agatone non è possibile che io resti qui ma è indispensabile che cambi posto per essere lodato da socrate e queste disse alcibiade sono proprio le stesse cose quando è presente socrate è impossibile avere un po a che fare con i belli per un altro e ora come ha trovato facilmente in maniera credibile il motivo perché questo giaccia vicino a lui agatone dunque si alzò per andare a sdraiarsi presso socrate ma all'improvviso un numeroso gruppo di uomini in festa si affacciò alla porta e trovandola aperta perché era uscito qualcuno si volsero verso di noi e si adagiarono alla rinfusa sui letti ogni cosa allora si riempì di scompiglio e senza più alcuna regola si dovette bere per forza parecchio vino erissimaco fedro e alcuni altri diceva aristodemo se ne andarono egli fu colto dal sonno e dormì molto a lungo perché lunghe erano le notti e si svegliò sul fare del giorno al canto dei galli quando si svegliò osservò che gli altri in parte dormivano in parte se ne erano andati se ne stavano svegli soltanto agatone aristofane e socrate e continuavano a bere da una grande coppa compiendo il giro sulla destra socrate parlava con loro tra altre cose aristodemo diceva di non ricordare bene quei discorsi per non avervi assistito dall'inizio in quanto dormichiava ma in sostanza diceva socrate portava i suoi interlocutori ad ammettere che la stessa persona deve sapere comporre commedie e tragedie e che chi in arte è poeta tragico è anche comico ed essi costretti a queste ammissioni e seguendolo con poco slancio dormichiavano di tanto intanto e primo si addentrò aristofane agatone invece quando era ormai giorno socrate quando i due si furono addormentati si alzò e se ne andò e aristodemo come di consueto lo seguì recatosi al liceo se rinfrescò un poco con acqua e come altre volte vi trascorse tutta la giornata e passando così il suo tempo la sera andò a riposare a casa sua